Il curriculum vitae del professor Persikov La sera del 16 aprile 1928, Vladimir Ipatevich Persikov, professore di zoologia della IV Università Statale e direttore dell'Istituto di Zoologia di Mosca, entrò nel suo studio, nell'Istituto di Via Erzen. Accese la sfera opaca sospesa in alto e si guardò intorno. Come l'inizio della spaventosa catastrofe va fatto risalire appunto a quella disgraziata sera, così proprio il professor Persikov deve esserne considerato la causa primaria. Il professore aveva 58 anni, una testa notevole, calva, con ciuffi di capelli, giallastri, dritti sulle tempie, piccoli occhi sfavillanti, un viso accuratamente sbarbato. Il labbro inferiore sporgente gli conferiva un'espressione sempre un po' capricciosa. Sul naso rosso portava degli occhiali all'antica, con montatura in argento. Di statura era alto, ma alquanto curvo. Parlava con voce sottile, stridula e gracidante, e tra le altre stranezze aveva anche quella di socchiudere gli occhi e piegare ad uncino il dito indice della mano destra quando diceva qualcosa con autorità e convinzione. Ma siccome parlava sempre con convinzione, dall'alto di un'erudizione che nei settori di sua competenza era assolutamente fenomenale, questo uncino faceva spesso la sua apparizione davanti agli occhi degli interlocutori del professor Persikov. Egli, del resto, parlava quasi soltanto delle sue materie, e cioè zoologia, embriologia, anatomia, botanica e geografia. Il professor Persikov non leggeva giornali e non andava a teatro. La moglie l'aveva abbandonato nel 1913 per un tenore dell'opera di Zimin, lasciandogli un biglietto che diceva, «Le tue rane suscitano in me un insopportabile fremito di ripugnanza. Sarò infelice tutta la vita per causa loro». Il professore non si era risposato e non aveva figli. Era molto irascibile, ma si calmava presto. Amava bere te alla mortella e viveva nella via Precistenca, in un appartamento di cinque stanze, una delle quali occupata dalla governante Maria Stepanovna, una vecchietta rinsecchita che accudiva il professore come una balia. Nel 1919 requisirono al professore tre delle cinque stanze, ed egli dichiarò a Maria Stepanovna, «Se non la smetteranno con queste porcherie, Maria Stepanovna, me ne andrò all'estero!». E senza alcun dubbio, se il professore avesse portato a termine questo progetto, gli sarebbe stato molto facile ottenere una cattedra di zoologia in una qualsiasi università del mondo, poiché era uno studioso di livello davvero superiore, e nelle materie che in un modo o nell'altro avessero attinenza con gli anfibi o con i rettili nessuno gli era pari, ad eccezione dei professori William Weigel di Cambridge e Giacomo Bartolomeo Beccari di Roma. Oltre al russo, il professore leggeva quattro lingue e parlava perfettamente il francese e il tedesco. Persikov non mise in atto il suo progetto di trasferirsi all'estero, e l'anno 1920 risultò anche peggiore del precedente. Gli eventi si susseguirono l'uno all'altro. La prima via Bolsaia Nikitskaya venne ribattezzata via Erzen, quindi l'orologio del palazzo d'angolo tra via Erzen e via Mokovaya si fermò alle 11 e un quarto. E infine, nei terrari dell'istituto di zoologia morirono inizialmente otto magnifici esemplari di raganella, poi quindici rane comuni e per ultimo uno straordinario esemplare di rana del Suriname. Non erano riusciti a sopravvivere a tutte le perturbazioni di quell'anno memorabile. Immediatamente dopo, le rane di quel primo gruppo di anfibi a pelle nuda, che giustamente definito classe degli anfibi anuri, passò a miglior vita anche l'inamovibile guardiano dell'istituto, il vecchio Vlas, che non apparteneva peraltro a tale classe. La causa della sua morte però fu identica a quella dei poveri anfibi. Persikov la diagnosticò subito. Inedia Lo studioso aveva certamente ragione. Si sarebbe dovuto nutrire Vlas con la farina e le rane con i vermi della farina, ma non trovandosi più la prima, erano scomparsi anche i secondi. Persikov provò a convertire i rimanenti venti esemplari di raganella ad un'alimentazione a base di scarafaggi, ma anche questi ultimi erano finiti chissà dove, mostrando così un atteggiamento ostile nei confronti del comunismo di guerra. E anche gli ultimi esemplari dovettero essere gettati nelle buche dell'immondizia nel cortile dell'istituto. Tutte queste morti, in particolare quella della rana del Suriname, produssero sul professor Persikov un effetto indescrivibile. Per qualche strana ragione egli ne ritenne responsabile l'allora commissario dell'istruzione. Nel corridoio del sempre più gelido istituto, Persikov, in cappello e calosce, diceva al suo assistente Ivanov, un raffinato gentiluomo dalla barba bionda a punta, Per tutto quel che è accaduto ucciderlo è anche troppo poco, Peter Stepanovich. Ma che cosa fanno? Stanno distruggendo l'istituto. Un esemplare unico di pipa americana, un maschio senza confronti lungo 13 centimetri. In seguito andò ancora peggio. Dopo la morte di Vlas, le finestre dell'istituto gelarono da entrambi i lati, tanto che anche la superficie interna dei vetri si ricoprì di fiori di ghiaccio. Morirono i conigli, le volpi, i lupi, i pesci e tutte le pisce, sino all'ultima. Persikov iniziò a tacere per giorni interi, quindi si ammalò di polmonite. Ma non morì. Quando si fu ristabilito, prese a recarsi all'istituto due volte alla settimana. In una sala circolare dove, chissà perché, indipendentemente dalla temperatura esterna, c'erano sempre 5 gradi sotto zero, Persikov, in cappello con paraorecchie, sciarpa e calosce, teneva a otto ascoltatori un ciclo di lezioni sul tema I rettili della zona torrida, emettendo nuvole di vapore bianco. Il resto del suo tempo lo trascorreva a casa, sul divano di una camera stipata di libri sino al soffitto. Coperto da un plaid, tossiva, fissava la bocca infuocata di una stufetta che Maria Stepanovna alimentava con delle sedie dorate e tornava col pensiero alla rana del Suriname. Ma a questo mondo tutto finisce. Finì il 1920, poi il 1921. Nel 1922 iniziò una certa inversione di tendenza. In primo luogo, al posto del defunto Vlas comparve Pankrat, un ancora giovane ma molto promettente guardiano zoologico. A poco a poco, ricominciarono anche a riscaldare l'istituto. In estate Persikov, con l'aiuto di Pankrat, cattorò 14 esemplari di rana comune sul fiume Kliasma. Nei terrari ricominciò a fervere la vita. Nel 1923 Persikov teneva già otto lezioni alla settimana, tre nell'istituto e cinque all'università. Nel 1924, 13, oltre a quelle presso le facoltà operaie. Nella primavera del 1925 divenne celebre per aver bocciato gli esami ben 76 studenti e tutti sugli anfibi a pelle nuda. Come? Lei non sa in che cosa gli anfibi si differenziano dai rettili? È semplicemente ridicolo, giovanotto. Gli anfibi non hanno reni pelvici. Mancano. Proprio così. Dovrebbe vergognarsi. Lei, suppongo, è marxista. Marxista, rispondeva a franto il bocciato. E allora ci rivedremo in autunno, diceva cortesemente Persikov, gridando poi con vivacità a Pankrat. Avanti un altro! Il professor Persikov si rianimò, esattamente come fanno gli anfibi alla prima pioggia abbondante dopo una lunga siccità, nel 1926, quando una società mista russo-americana costruì nel centro di Mosca, tra il vicolo Gazetny e la via Tverskaya, 15 palazzi a 15 piani e in periferia 300 cottage operai, ognuno con 8 appartamenti, mettendo così fine una volta per tutte alla terribile e ridicola crisi delle abitazioni che tanto aveva tormentato i moscoviti negli anni 1919 e 1925. In generale, quell'estate fu molto importante nella vita di Persikov. A volte egli si fregava le mani con un risolino sommesso e soddisfatto, ricordando come si fosse dovuto rattrappire in due sole stanzette insieme con Maria Stepanovna. Adesso era tornato in possesso di tutte e cinque, poteva star comodo e disporre a piacere dei suoi 2500 libri, degli animali impagliati, dei diagrammi e dei preparati, nonché di una lampada verde sul tavolo dello studio. Anche l'istituto diventò irriconoscibile. Lo riverniciarono in tinta color crema, nella stanza degli anfibi portarono l'acqua per mezzo di una speciale conduttura, sostituirono tutti i vetri con cristalli, inviarono cinque nuovi microscopi, tavoli di vetro per i preparati, globi a luce diffusa da 2000 volt, riflettori e scaffali per il museo. Sì, Persikov si rianimò, ma il mondo ne venne inaspettatamente a conoscenza solo quando nel dicembre 1926 pubblicò il suo saggio. Ancora sul problema della riproduzione dei corazzati o cheloni, pagine 126, bollettino della quarta università. Poi nell'autunno del 1927 apparve il suo capolavoro di 350 pagine, ben presto tradotto in sei lingue, tra le quali giapponese. Embriologia delle pipe, dei rospi e delle rane, prezzo tre rubli edizioni dello Stato. Fu nell'estate del 1928 che accadde quella cosa incredibile, spaventosa. La spirale rossa. E così il professore accese la luce e si guardò intorno. Accese anche il riflettore sul lungo tavolo degli esperimenti, indossò un camice bianco e fece tintinnare alcuni strumenti che si trovavano sul tavolo. Dei 30.000 automezzi che nel 1928 circolavano a Mosca, molti stavano in quel momento sprecciando con un sibilo sul liscio selciato di via Erzen. Ad ogni istante poi un tram delle linee 16, 22, 38 e 53 svoltava rombando e stridendo dalla via Erzen alla Mokovaya. Alta e lontana, accanto alla scura e massiccia cupola del Tempio di Cristo, si intravedeva alla pallida e velata falce della luna, i cui raggi si rifrangevano con riflessi multicolori sui vetri dello studio. Ma nella luna, nei suoni della mosca primaverile, interessavano Vladimir Ipatevich Persikov. Seduto su uno sgabello girevole a tre piedi, il professore era intento a lavorare, con le mani ingiallite dal tabacco, alla cremagliera di un magnifico microscopio Zeiss nel quale era stato inserito un comune preparato di amebe vive, non colorate. Proprio nell'istante in cui il professore stava per portare l'ingrandimento da 5.000 a 10.000, la porta si socchiuse e apparve una barbetta a punta e un grembiule di cuoio. L'assistente si rivolse al professore. «Vlanimir Ipatevich, ho fissato il mese entere, non vuole dargli un'occhiata». Persikov valzò giù dallo sgabello, lasciò la cremagliera a mezza strada e, arrotolando lentamente tra le mani una sigaretta, passò nello studio dell'assistente. Là, su un tavolo di vetro, una rana mezzo soffocata e stordita dal terrore e dalla sofferenza, giaceva croce fissa su un sostegno di sughero. Le sue trasparenti interiora, simili a mica, erano state estratte dal ventre insanguinato e poste sotto la lente del microscopio. «Molto bene», disse Persikov e accostò l'occhio all'oculare del microscopio. Qualcosa di molto interessante si poteva evidentemente osservare nel mese entere della rana. Chiaramente visibili lungo i fiumi dei vasi sanguigni, correvano veloci i vivaci globuli rossi. Persikov dimenticò le sue amebe e per un'ora e mezza rimase inchiodato, alternandosi con Ivanov alla lente del microscopio. Durante quest'operazione i due scienziati si scambiarono parole animate, ma incomprensibili ai comuni mortali. Infine Persikov si staccò dal microscopio, dicendo «Nulla da fare, il sangue si sta coagulando». La rana mosse a fatica la testa e, nei suoi occhi sempre più spenti, erano chiare queste parole «Siete delle carugne, questa è la verità». Persikov si alzò, sgranchì le gambe intorpidite, tornò nel suo studio, sbadigliò, si stropicciò le palpebre perennemente infiammate e sedette sullo sgabello. Di nuovo si concentrò sul microscopio, pose le dita sulla cremagliera e fece per girare la vite. Ma non la girò. Con l'occhio destro Persikov aveva visto uno sfocato disco bianco e al suo interno delle pallide amebe. Ma al centro del disco era ben visibile una spirale colorata, simile ad un ricciolo di donna. Lo stesso Persikov e centinaia dei suoi allievi avevano molte volte prima da loro osservato questo disco senza mai interessarsene. Non c'era ragione, infatti, di occuparsene. Quel piccolo fascio di luce non era che un ostacolo all'osservazione e indicava soltanto che il preparato non era stato messo a fuoco. Perciò lo eliminavano impietosamente con un semplice giro di vite, illuminando il campo con una luce bianca e uniforme. Le lunghe dita di Persikov erano già ben strette intorno alla filettatura della vite, quando ad un tratto tremarono e la lasciarono. La causa di questa interruzione era stato l'occhio destro di Persikov, che improvvisamente si era fatto vigile, perplesso, persino turbato. Al microscopio, d'altronde, non sedeva certo l'ultimo arrivato, ma il professor Persikov in persona. Tutta la vita, tutti i suoi pensieri si concentrarono nell'occhio destro. In un silenzio sepolcrale, per cinque minuti l'essere superiore scrutò quello inferiore, torturando e sforzando l'occhio sul preparato non a fuoco. Attorno tutto taceva. Pankrat si era già addormentato nella sua camera e solo una volta, in lontananza, tintinnarono musicalmente e dolcemente i vetri degli scaffali. Era Ivanov che, uscendo, chiudeva a chiave il suo studio. Il portone d'ingresso gemette dietro di lui. Solo allora si udì la voce del professore rivolta a chissà chi. Ma che roba è? Io non capisco. Un camion ritardatario passò per via Erzen, facendo tremare le vecchie pareti dell'istituto e oscillare sul tavolo la bacinella di vetro con le pinzette. Il professore impallidì e protese le mani sul microscopio, come una madre protegge i suoi piccoli in pericolo. Non si trattava ormai di stringere o meno la vite. Persikov temeva che qualche forza esterna proiettasse fuori dal campo ottico del microscopio quel che aveva visto. Era ormai mattino e una striscia dorata illuminava già il porticato color crema dell'istituto quando il professore si staccò dal microscopio e mosse le gambe rattrappite verso la finestra. Con dita tremanti, premette un bottone e le pesanti tende nere oscurarono il mattino. Nello studio ritornò la notte sapiente degli studiosi. Giallo e ispirato, Persikov allargò goffamente le gambe e iniziò a parlare, gli occhi pieni di lacrime fissi sul parquet. «Ma com'è possibile? Tutto questo è mostruoso, è mostruoso, signori!» ripeté rivolgendosi alle rane dei terrari. Ma le rane dormivano e non gli risposero nulla. Il professore tacque per un po', poi si avvicinò all'interruttore, sollevò le tende, spense tutte le luci e riprese a guardare nel microscopio. Il viso gli si fece teso ed egli aggrottò le sopracciglia gialle e cespugliose. «Bene, bene», borbottò. «È scomparso, capisco, capisco», pronunciò lentamente, fissando con espressione folle e ispirata la lampada spenta sopra la sua testa. «È semplice!» E di nuovo abbassò le tende fruscianti e accese la luce. Poi tornò a guardare nel microscopio e sorrise allegro, ma di un'allegria rapace. «Ma lo prenderò!» disse sollevando un dito con aria trionfale solenne. «Lo prenderò! Forse dipende dal sole!» E ancora una volta sollevò le tende bruscamente. Il sole adesso era alto e inondava di luce le mura dell'istituto e obliquamente il selciato di via Erzen. Il professore guardava dalla finestra calcolando il moto del sole durante il giorno. Più volte, come se stesse danzando, si allontanò dalla finestra per poi riavvicinarcisi. Infine si appoggiò al davanzale. Poi si accinse ad un importante e misterioso lavoro. Coprì il microscopio con una campana di vetro, fuse alla luce azzurrastra di un becco a gas un pezzo di ceralacca e con questa sigillò l'estremità della campana al tavolo, impresse il pollice sulla cera. Quindi spense la luce, uscì e chiuse a chiave la porta dello studio. Il corridoio dell'istituto era in penombra. Il professore raggiunse la camera di Pancrat e bussò a lungo senza successo. Infine, da dietro la porta si udì qualcosa di simile al ringhiare di un cane alla catena e poi scaracchiare e muggire sinché Pancrat, in mutandoni a strisce legati alle caviglie, si affacciò sullo sfondo chiaro della porta. «Scusami se ti ho svegliato, Pancrat», disse il professore guardandolo da sopra gli occhiali. «Vada bene, amico mio, che domani mattina nessuno entri nel mio studio. Ho lasciato un lavoro a metà, non bisogna toccarlo, hai capito?» «Io, io ho capito», rispose barcollando e gemendo Pancrat che non aveva capito nulla. «No, ascolta, devi svegliarti, Pancrat», disse lo zoologo colpendo leggermente le costole di Pancrat. Sul viso di questo si manifestò allora una sorta di spavento e un'ombra di assennatezza apparve nei suoi occhi. «Ho chiuso a chiave lo studio», continuò Persikov. «Nessuno deve fare pulizia sino al mio ritorno, hai capito?» «Sì, signore, ho capito», rispose racquamente Pancrat. «Magnifico, torna pure a dormire adesso». Pancrat si voltò e scomparve al di là della porta, gettandosi subito sul letto. Il professore discese nell'atrio a vestirsi. Indossò il grigio soprabito estivo e un cappello floscio, poi, rammentando quanto aveva visto nel microscopio, si mise a fissare le sue calosce come se le vedesse per la prima volta. Quindi indossò la caloscia sinistra, sulla quale cercò di infilare anche la destra, ma senza riuscirvi. «È stata una straordinaria casualità che Ivanov mi abbia chiamato», disse lo studioso. «Altrimenti non me ne sarei accorto. Ma che cosa ne verrà fuori? Lo sai il diavolo». Il professore ridacchiò, corrugò alla fronte, osservando le calosce, tolse la sinistra e calzò la destra. «Dio mio, è persino impossibile immaginare tutte le conseguenze». Il professore gettò via con disprezzo la caloscia sinistra che lui irritava, non volendo saperne di entrare sulla destra e si avviò verso la porta con una sola caloscia. Proprio allora perse anche il fazzoletto e uscì sbattendo il portone. Nel porticato frugò a lungo nelle tasche, tostandosi i fianchi per trovare i fiammiferi. Infine ci riuscì e si incamminò per la via con una sigaretta non accesa in bocca. Sino alla chiesa di Cristo Salvatore lo studioso non incontrò anima viva. Lì alzò la testa e la sua attenzione si concentrò sulla cupola d'oro della chiesa, un cui lato era dolcemente lambito dal sole. «Ma com'è possibile che non me ne sia accorto prima? Che caso strano! Bah, sono uno stupido!» Il professore chinò la testa e si fece pensieroso, fissandosi i piedi diversamente calzati. «Che fare adesso? Potrei tornare da Pancrat. No, non voglio svegliarlo. Gettarla via, questa traditrice? No, non è il caso, la dovrò tenere in mano». Si tolse la caloscia spaiata e la portò in mano con disgusto. Dalla precistenca svoltò in quell'istante una vecchia automobile in cui sedevano tre persone, due uomini ubriachi che tenevano sulle ginocchia una donna vistosamente troccata in pantaloni di seta, secondo la moda del 1928. «Ehi, babbino!» gridò la donna con voce bassa e rauca. «Te la sei bevuta l'altra caloscia, eh?» «Il vecchietto deve essersi sbronzato all'Alcazar!» urlò l'ubriaco di sinistra mentre quello di destra si sporse fuori dall'automobile e strepitò. «Ehi, nonno, sai per caso se la volcionca rimane aperta la notte? Stiamo andando là!» Il professore gli osservò severamente da sopra gli occhiali, si tolse di bocca la sigaretta e subito si scordò della loro esistenza. La precistenca era solcata da una fascia luminosa. La cupola della chiesa di Cristo cominciava a fiammeggiare. Il sole era alto. Persikov lo acchiappa. Si trattava di questo. Avvicinando il suo occhio geniale all'oculare del microscopio, il professor Persikov aveva per la prima volta nella sua vita prestato attenzione ad un raggio che risultava evidentissimo nella spirale multicolore. Questo raggio era di un intenso color rosso e spiccava nella spirale come una piccola punta, simile all'incirca ad un ago. La malasorte volle che per alcuni secondi il raggio attirasse l'occhio esercitato del grande studioso. Nel raggio il professore aveva intravisto qualcosa mille volte più importante e più rivelatore del raggio stesso. Quest'ultimo non era che il prodotto casuale e labile di un movimento simultaneo della lente e dell'obiettivo del microscopio, ma grazie al fatto che il professore era stato chiamato dall'assistente in un'altra stanza, le amebe avevano subito per un'ora e mezza l'azione di quel raggio, con conseguenze alquanto singolari. Mentre nelle parti del disco rimaste fuori dal raggio le amebe granulari hanno rimaste pigre e impotenti, nella sottile striscia rossa la vita ferveva impetuosa. Agitando gli pseudopodi, le amebe grigiastre tentavano con tutte le loro forze di entrare nella striscia rossa dove, come per magia, si rianimavano. Una forza misteriosa infondeva in loro lo spirito della vita. Avanzavano in massa, combattendo per un posto in quel raggio al cui interno avveniva un frenetico processo di proliferazione. Infrangendo e rovesciando tutte le leggi che Persikov conosceva come le dita della sua mano, le amebe si riproducevano per gemmazione con fulmine a velocità. Sotto i suoi occhi si scendevano in più parti, ognuna delle quali diveniva in due secondi un nuovo e vitale organismo. Nel giro di pochi istanti questi stessi organismi crescevano e divenivano adulti per poi subito dar vita ad una nuova generazione. Nella sottile striscia rossa e quindi in tutto il disco, lo spazio venne presto a mancare. Cominciò inevitabilmente una lotta spietata. Appena nate, le cellule si scagliavano ferocemente l'una contro l'altra, sbranandosi e fagocitandosi. In mezzo ai nuovi organismi giacevano i cadaveri di quelle perite in questa lotta per la sopravvivenza. Trionfavano i migliori, i più forti. E questi migliori erano terribili. Non solo le loro dimensioni erano due volte maggiori di quelle delle comuni amebe, ma si distinguevano anche per cattiveria e voracità davvero impressionanti. I movimenti di queste amebe erano impetuosi grazie a pseudopodi assai più lunghi della norma e di cui si servivano, senza esagerazione, come le piovere dei loro tentacoli. La seconda sera il professore, pallido, smunto, affamato, eccitato dalle grosse sigarette che arrotolava da sé, studiò la nuova generazione delle amebe. La terza sera si dedicò invece all'origine di tutto, al raggio rosso. Il gas si bilava sommessamente nel beccuccio e già in via Erzen il traffico aveva ricominciato a ronzare quando il professore, avvelenato dalla centesima sigaretta, si appoggiò alla spalliera della poltrona girevole e socchiusa gli occhi. Sì, adesso è tutto chiaro. È il raggio che le rende così vitali. Un raggio nuovo. Non ancora studiato né scoperto da nessuno. La prima cosa che si deve chiarire è se sia possibile ottenerlo solo con l'elettricità oppure anche con il sole, borbottò tra sé il professore. Nel corso della notte successiva anche questo problema fu risolto. Persikov riprodusse il raggio in tre microscopi differenti, mentre con il sole non riuscì ad ottenere nulla. Bisogna supporre che nello spettro solare questo raggio non ci sia. Già, già, dunque, lo si può ottenere solo con la luce elettrica. Il professore guardò allora con affetto la sfera opaca che pendeva dal soffitto. riflette e ispirato. Chiamò Ivanov nel suo studio e gli raccontò ogni cosa, mostrandogli anche le amebee. Il libero docente Ivanov rimase sbalordito, quasi schiacciato dalle parole del professore. Ma come diavolo era possibile che nessuno avesse mai notato quel fenomeno tanto semplice, quella sottile freccetta? Sì, chiunque avrebbe potuto scoprirla. Anche lui, Ivanov. Davvero mostruoso. cose da pazzi. Ma guardi, Vladimir Patevich, diceva Ivanov, osservando terrorizzato attraverso l'oculare. Che cosa sta succedendo? Crescono sotto i miei occhi. Guardi, professore, guardi! Le osservo già da tre giorni, rispose ispirato Persikov. Quindi, tra i due studiosi, ebbe luogo una conversazione il cui senso era questo. Il libero docente Ivanov avrebbe costruito, servendosi di lenti e di specchi, un apparecchio con il quale fosse possibile ottenere al di fuori del microscopio un raggio di dimensioni maggiori. Ivanov sperava, anzi ne era convinto, che si trattasse di un'impresa estremamente semplice. Il professore avrebbe avuto il suo raggio, poteva esserne sicuro. A quel punto ci fu un attimo di imbarazzo. Ed io, Petro Stepanovich, quando pubblicherò il risultato di questo lavoro, scriverò che l'apparecchio è stato messo a punto da lei, soggiunse Persikov, sentendo che bisognava superare quell'attimo di disagio. Ah, questo non è importante, anche se, certo. L'imbarazzo si dileguò, e da quel momento il raggio inghiottì anche Ivanov. Mentre Persikov, dimagrendo e destenuandosi, trascorreva giorni interi e metà delle notti al microscopio, Ivanov si affaccendava nella luce abbagliante del laboratorio di fisica, a combinare con l'aiuto di un meccanico, lenti e specchi. Sul richiesta del commissario dell'istruzione, dalla Germania inviarono a Persikov tre casse contenenti specchi biconcavi, biconvessi e perfino dei vetri levigati con vessoconcavi. Alla fine Ivanov riuscì effettivamente a costruire l'apparecchio e ad isolare con esso il raggio rosso. E bisogna rendergli merito, lo fece da maestro. Il raggio risultò robusto e ben con un diametro di 4 centimetri. Il primo di giugno installarono l'apparecchio nello studio di Persikov, che iniziò impazientemente gli esperimenti con delle uova di rana illuminate dal raggio. I risultati furono sconvolgenti. Nel corso di due giorni dalle uova uscirono migliaia di girini. Ma questo è niente. In un solo giorno i girini divennero rane adulte e così cattive voraci che una metà di esse divorò immediatamente l'altra metà. Quelle rimaste in vita cominciarono subito, contro ogni regola, a deporre le uova e nel giro di due giorni, senza l'intervento di nessun raggio, si ebbe una nuova e innumerevole generazione di rane. Nello studio dello scienziato iniziò a succedere di tutto. I ranocchi saltellavano per tutto l'istituto, sui terrari, sul pavimento. In ogni angolo risuonavano cori gracidanti, come in una palude. Pankrat, che già prima temeva Persikov quanto il fuoco, cominciò a provare nei suoi confronti un sentimento di mortale spavento. Dopo una settimana lo stesso professore ne aveva avuto abbastanza. L'istituto si riempì allora dell'odore dell'etere e del cianuro di potassio e Pankrat, che si era tolto con troppo anticipo la maschera, per poco non ne morì avvelenato. Infine si riuscì a sterminare con i veleni la prolifica generazione palustre e ad areare i locali dell'istituto. Persikov disse allora a Ivanov, lo sa Piotr Stepanovich che l'effetto del raggio sul deteuroplasma e in generale sulla vocellula è stupefacente? Ivanov, un gentiluomo solitamente freddo e riservato, interruppe il professore con un tono inconsueto. Vladimir Ipatevich, ma perché parla di dettagli secondari del deuteroplasma? Dobbiamo essere sinceri, lei ha scoperto qualcosa di inaudito. Poi, evidentemente sforzando la sua natura, riuscì a dire, professor Persikov, lei ha scoperto il raggio della vita. Un leggero rossore apparve sulle guance pallide e non rasate di Persikov. Beh, ecco, io, borbottò il professore. Lei, continuò Ivanov, lei diventerà celebre in tutto il mondo, è una cosa da capogiro. Ma capisce, proseguì quindi con foga, Vladimir Ipatevich che al confronto con quel che lei ha fatto agli eroi di Wells non sono che sciocchezze. E io che credevo fossero tutte favole. Ricorda il cibo degli dèi. Che cos'è, un romanzo? rispose il professore. Ma sì, Dio mio, un romanzo, è famosissimo. L'ho dimenticato, rispose il professore. Ricordo di averlo letto, ma l'ho dimenticato. Se non lo ricorda più, allora guardi qui. E Ivanov sollevò sul tavolo di vetro una rana morta di dimensioni incredibili e dal ventre gonfio. Anche dopo la morte il suo muso conservava un'espressione malvagia. È mostruosa. La moglie del Pope Drosdov. Io sa perché, forse per colpa di Ivanov, oppure semplicemente perché le notizie sensazionali si diffondono da sole, fatto sta che nella gigantesca e ribollente mosca si cominciò improvvisamente a parlare del raggio e del professor Persikov. A dire il vero, le prime voci furono frammentarie e alquanto nebulose. La notizia della strepitosa scoperta svolazzò come un uccello ferito tra le luci della capitale, ora svanendo, ora riapparendo. Sinché verso la metà di luglio, sulla ventesima pagina delle Isvestia, apparve un breve articolo dedicato al raggio sotto il titolo Novità della scienza e della tecnica. In maniera estremamente prudente si dava notizia della scoperta, da parte di un celebre professore della quarta università, di un raggio che, pur in attesa di una necessaria verifica, sembrava incrementare in maniera straordinaria l'attività vitale degli organismi inferiori. Il cognome del professore era stato, come al solito, storpiato in Pevsikov. Ivanov portò il giornale e mostrò al professore l'articolo. Pevsikov, mugugnò Pevsikov trafficando con l'apparecchio nello studio. Ma come fanno questi sfaticati a sapere tutto? Maime, la storpiatura del cognome non fu sufficiente a tenere lontani i guai, che a cominciare dal giorno dopo sconvolsero l'intera esistenza del professor Pevsikov. Dopo aver bussato alla porta, Pankrat entrò nello studio e consegnò a Pevsikov un magnifico biglietto da visita satinato. È lì fuori, soggiunse timidamente. Sul biglietto da visita era scritto, in caratteri eleganti, Alfred Arkadevich Bronski, collaboratore dei giornali di Mosca, Fiammella Rossa, Pepe Rosso, Rivista Rossa, Progettista Rosso e del quotidiano Mosca Sera Rossa. Mandalo al diavolo, disse Persikov con voce monotona, gettando il biglietto sotto il tavolo. Pankrat si voltò e uscì, ma dopo cinque minuti ritornò con un'aria sofferente e un secondo esemplare dello stesso biglietto da visita. Ma cosa fai, mi prendi in giro, gracchiò minacciosamente Persikov. Dice di venire da parte della GPU, rispose Pankrat impallidendo. Persikov afferrò con una mano il biglietto da visita e quasi lo strappò a metà. Con l'altra gettò la pinzetta sul tavolo. Sul biglietto una scrittura tutta a Ghirigori aveva aggiunto «Mi scuso e le chiedo, molto stimato professore, la cortesia di concedermi un paio di minuti per informare l'opinione pubblica. Sono anche collaboratore della rivista satirica Corvo Rosso, edizioni GPU». «Fallo entrare», disse Persikov rimanendo senza fiato. Alle spalle di Pankrat fece allora la sua apparizione un giovanotto dal viso accuratamente rasato, puntuoso, la cui caratteristica più singolare erano le sopracciglia perennemente sollevate, simili a quelle d'un cinese, e degli occhietti neri che neppure per un istante si posavano sull'interlocutore. Il giovane era vestito alla moda, inappuntabilmente. Giacca stretta e lunga, sin quasi alle ginocchia, larghissimi pantaloni a campana, scarpe di vernice incredibilmente larghe e simili a zoccoli. Tra le mani teneva un bastone da passeggio, un cappello con l'estremità a punta e un block notice. «Che cosa le occorre?» domandò Persikov con una voce tale che Pankrat sparì subito al di là della porta. «Non le hanno detto che sono molto impegnato?» Anziché rispondere, il giovanotto si inchinò due volte al professore, prima a sinistra e poi a destra, quindi i suoi occhietti scrutarono velocemente l'intero studio. Infine, tracciò un segno sul block notice. «Sono impegnato», ripete il professore guardando con ripugnanza gli occhietti dell'ospite, ma senza alcun risultato data alla loro mobilità. «Le chiedo mille volte perdono, stimatissimo professore», presi a dire il giovanotto con voce sottile, «per aver fatto irruzione qui da lei, sottraendole del tempo prezioso, ma la notizia della sua scoperta di importanza universale, ormai diffusa in tutto il mondo, impone alla nostra rivista di chiederle qualche spiegazione». «Ma quale spiegazione? Di che mondo sta parlando?», stridette Persikov diventando giallo. «Io non sono tenuto a darle spiegazioni né altro, sono impegnato, tremendamente impegnato». «A che cosa sta lavorando?», chiese insinuante il giovanotto, aggiungendo un altro segno sul block notice. «Sì, io, ma che cosa fa? Vuole pubblicare qualche cosa?» «Sì», rispose il giovanotto, ed un tratto si mise a scrivere velocissimo sul block notice. «In primo luogo non ho intenzione di pubblicare nulla prima di finire il lavoro, tantomeno in questi vostri giornali. In secondo luogo come diavolo è venuto a sapere queste cose?» E Persikov si rese conto di aver perduto il filo. «È vero che lei ha scoperto il raggio della nuova vita?» «Ma quale nuova vita?», sbottò il professore esasperato. «Di che sciocchezze va blaterando? Il raggio su cui sto lavorando è ben lontano dall'essere sperimentato a fondo. Non se ne sa ancora quasi nulla. Certo, è possibile che accresca l'attività vitale del protoplasma, ma...» «Di quante volte?», si affrettò a domandare il giovanotto. Persikov si smarrì definitivamente. «Ma che bel tipo! Che diavolo vuole? Perché queste domande balorde. Comunque direi di circa mille volte». Negli occhi del giovanotto balenò una rapace allegria. «E riesce ad ottenere degli organismi giganteschi?» «Ma no, nulla di tutto questo. È vero che alcuni organismi sono risultati più grandi del comune. Ecco, hanno delle nuove proprietà. Ma la cosa importante non è la grandezza, ma l'incredibile velocità di riproduzione», disse per sua disgrazia il professor Persikov che subito se ne spaventò. Il giovanotto aveva riempito una pagina intera e continuava a scrivere sul suo block notice. «Ma che cosa sta scrivendo? La smetta!», disse con voce rotta il professore ormai disperato e consapevole di essere nelle mani del giovanotto. «È vero che in due giorni dalle uova di rana si possono ottenere due milioni di ranocchi». «Da quale quantità di uova?», gridò Persikov infuriato. «Ma l'ha mai visto lei un uovo di rana?» «Beh, diciamo un mezza libra?», chiese il giovanotto senza scomporsi. Persikov divenne paonazzo. «Ma che cosa sta dicendo? Ma come si fa a calcolare in questo modo? Anche se, certo, prendendo mezza libra di uova di rana, allora al diavolo, sì, ne potrebbero nascere anche due milioni, forse molte di più, chissà». Al giovanotto brillarono gli occhi e in un baleno un'altra pagina fu riempita per intero. «È vero che questo provocherebbe una rivoluzione su scala mondiale dell'allevamento degli animali?». «Che domande da gazzettiere?», sbottò Persikov. «Ma io non l'autorizzo a pubblicare queste sciocchezze. Mi accorgo dal suo viso che sta scrivendo delle bestialità». «Una sua fotografia, professore, la prego», disse il giovanotto riprendendo il block notice. «Che cosa? La mia fotografia, per le vostre rivistacce. Magari per pubblicarla tra tutte quelle diavolerie che ha appena scritto. No, no, e poi no. Io ho molto da fare, la prego». Una foto anche vecchia e gliela restituiamo immediatamente. «Pancrat!», si mise a gridare furiosamente il professore. «Molto onorato», disse il giovanotto e si dileguò. Invece dei passi di Pancrat, dietro la porta si udì uno strano, ritmico cigolio metallico, poi un picchiettio metallico sul pavimento. Infine fece il suo ingresso nello studio un uomo eccezionalmente grasso, insaccato in una blusa, con dei pantaloni ricavati da una coperta e una borsa tra le mani. Il viso era tondo, ben rasato, come ricoperto da un cerone giallastro, che sfoggiava un sorriso accattivante. L'uomo si inchinò militarmente al professore, poi si riaddrizzò facendo scattare la gamba come una molla, persico famutolì. «Signor professore», iniziò lo sconosciuto con una piacevole voce roca. «Perdoni il povero mortale che ha infranto la sua solitudine». «Anche lei è un reporter?», domandò Persicov. «Pancrat!» «Assolutamente no, signor professore», rispose il grassone. «Mi permetta di presentarmi, sono capitano di lungo corso e collaboratore del giornale e il messaggero dell'industria presso il consiglio dei commissari del popolo». «Pancrat!», gridò istericamente Persicov, mentre nell'angolo dello studio si accese una spia rossa e il telefono iniziò a suonare sommessamente. «Pancrat!», ripetì il professore. «Pronto? Chi parla?» «Verzeien Sie bitte, Herr Professor», gracchiò il telefono in tedesco. «Das istrohe. Ich bin mit Arbeiter des Berliner Tageplatz». «Pancrat!», gridò il professore nella cornetta del telefono. «Ich bin momentan sehr beschäftig und kann Sie deshalb jetzt nicht empfangen. Pancrat!», e nell'ingresso principale dell'istituto erano ormai iniziate le scampanellate. «Sensazionale omicidio in via Bronnaia», ululavano le voci naturalmente rauche degli strilloni, guizzanti nel fitto di luci, ruote e lampioni, sull'arroventato selciato di giugno. «Sensazionale epidemia colpisce i polli della vedova del Pope Drosdov. Servizio con fotografie. Sensazionale! Il professor Persikov scopre il raggio della vita!» Persikov barcollò e quasi finì sotto le ruote di un'automobile. Era sulla Mokovaya, per strappare rabbiosamente un giornale dalle mani dello strillone. «Tre copecche, cittadino!», gridò il ragazzino, che subito dopo si tuffò nel mezzo della folla tornando ad ululare. «La gazzetta rossa della sera! La scoperta del raggio X!» L'esterrefatto Persikov aprì il giornale e si appoggiò alla colonnina d'un nampione. Dall'interno di un riquadro maltracciato, nella seconda pagina, in basso a sinistra, lo fissava un uomo calvo, dagli occhi folli e vacui, la mascella inferiore cascante, frutto della creazione artistica di Alfred Bronski. «Persikov, lo scopritore del misterioso raggio rosso», diceva la diedascalia sotto il disegno. Più in basso, sotto il titolo «Un enigma mondiale», un articolo iniziava con le seguenti parole. «Si sieda, prego», mi ha cortesemente detto il prestigioso studioso e il professor Persikov. Sotto l'articolo faceva bella mostra di sé la firma di Alfred Bronski Alonzo. Una luce verdastra guizzò sul tetto dell'università, nel cielo si accesero le parole fiammeggianti della gazzetta parlante e subito una gran folla si addensò sulla mokovaglia. «Si sieda», strepitò improvvisa da un megafono posto sul tetto una sgradevolissima voce sottile, del tutto simile ma amplificata mille volte a quella di Alfred Bronski. «Avevo già da tempo il desiderio di mettere il proletariato di Mosca a conoscenza dei risultati della mia scoperta!» Un sommesso scricchiolio meccanico risuonò allora alle spalle di Persikov. Qualcuno lo prese per la manica. Voltatosi, il professore scorse dinanzi a sé il viso giallo e tondo del proprietario della gamba di metallo. I suoi occhi erano colmi di lacrime, le labbra gli tremavano. «A me solo, signor professore, non si è degnato di comunicare i risultati della sua sbalorditiva scoperta», disse tristemente con un profondo sospiro. «E così addio ai miei quindici rubli». Il grassone guardò malinconicamente il tetto dell'università dove, nelle fauci oscure della notte, impazzava l'invisibile Alfred. Per qualche strana ragione Persikov sentì compassione per lui. «Io?» bofunchiò il professore afferrando con odio le parole che sgorgavano dal cielo. «Non gli ho mai detto si sieda! Che faccia di bronzo! Lei mi deve scusare, ma certo mi capisce. Uno lavora e gli invadono la casa. Non parlo di lei, naturalmente». «Ma forse, signor professore, vorrà almeno descrivermi il suo apparecchio», disse con voce mesta e insinuante al tempo stesso l'uomo meccanico. «Del resto ormai non ha più importanza». «Da mezza libra di uova nel giro di tre giorni nasce un'incalcolabile quantità di ranocchi», ragliò al megafono l'uomo invisibile. «Tutu!» si accanivano le automobili bloccate sulla mokovaglia. «Oh, ma pensa!» ripeteva la folla a bocca aperta. «Che mascalzone, vero?» sbuffò Persikov tremante per l'indignazione, rivolgendosi all'uomo meccanico. «Bella roba, ma io lo denuncio!» «Ignobile!» convenne il grassone. Un accecante raggio violetto colpì gli occhi del professore e tutt'avvampò intorno a lui. La colonnina del lampione, una striscia di selciato, una parete gialla e i visi dei curiosi. «Questo è per lei, signor professore!» esclamò entusiasta il grassone, aggrappandosi appeso morto alla manica di Persikov. Nell'aria qualcosa stridette. «Ma che vadano tutti al diavolo!» gridò angosciato Persikov, cercando di sottrarsi alla folla, sempre gravato da quel peso. «Ehi, taxi, via Precistenca!» Una macchina vecchia e sgangherata di quelle costruite nel 24 si fermò ansimando accanto al marciapiede. Il professore balzò sull'andò, cercando disperatamente di liberarsi del grassone. «La smetta di impicciarmi!» sbottò il professore e si riparò con le mani dalla luce violetta. «Avete letto? Di che si tratta? Hanno fatto a pezzi il professor Persikov con i suoi bambini sulla mala Yabronaya!» gridava la folla tutt'intorno. «Mai avuto figli, razza di cani che non siete altro!» urlò Persikov e subito fu inquadrato dall'obiettivo di una macchina fotografica che lo immortalò di profilo, con la bocca aperta e gli occhi furibondi. «Cr-tu! Cr-tu!» gracchiava il taxi mentre si incuneava tra la folla. Il grassone era riuscito a sedersi accanto al professore e gli riscaldava il fianco. Una storia di polli Steklovsk, un tempo si chiamava Troik, provincia di Kostroma, distretto di Steklovsk, una squallida cittadina di provincia. Sul terrazzino d'ingresso di una casetta di via Sobornaia, adesso ribattezzata via Personnalaia, uscì singhiozzando una donna. Indossava un vestito grigio di cotone a fiori e aveva la testa avvolta in un fazzoletto. Questa donna, vedova dell'ex-arciprete dell'ex-cattedrale, singhiozzava così forte che subito la testa di una donna coperta da un pesante fazzoletto si affacciò alla finestra dalla casetta di fronte ed esclamò «Che cos'hai, Stepanovna, un'altra?» «La diciassettesima», rispose la vedova Drozdova, continuando a singhiozzare. «Ah, va male», gemette la donna dal fazzoletto scuotendo la testa. «Ma cosa succede? Dio è adirato con noi, questa è la verità, ma davvero è morta?» «Vieni, Matriena, vieni», si lamentò la vedova del Pope, scoppiando nuovamente in fragorosi singhiozzi. «Vieni a vedere che cosa fa!» Un malconcio cancelletto grigiastro sbatté e dei piedi nudi di donna accalpestarono le gibbosità polverose della strada. La vedova del Pope, in lacrime, condusse Matriena nell'Aia. Bisogna sapere che la vedova del padre arciprete Savati Drozdov, spentosi nel 26 al tempo delle repressioni antireligiose, non si era persa d'animo, ne aveva invece organizzato un fiorente allevamento di polli. Appena la sua attività ebbe raggiunto un buon livello, la vedova si vide imporre tali tasse che senza dubbio sarebbe stata costretta a chiudere l'allevamento se certe brave persone non l'avessero aiutata. Le consigliarono infatti di dichiarare alle autorità locali il suo proposito di creare un collettivo di pollicoltura. Del collettivo entrarono a far parte la stessa Drozdova, la sua fedele servitrice Matrieska e una nipote sorda della vedova. La donna riuscì in questo modo ad evitare le tasse e a far così bene prosperare l'azienda che al tempo del nostro racconto circa 250 polli, tra i quali anche i Cocincina, affollavano la sua aia polverosa e interamente circondata dalle stie. Ogni domenica le uova della vedova facevano bella mostra di sé nel mercato di Steklovsk, ma le si vendeva anche a Tambov e a volte perfino nelle vetrine del negozio, che ora non esiste più, formaggi e burro da Cichkin a Mosca. Ma quel giorno la sua gallinella preferita, una bramaputra, stava male aggirandosi freneticamente nell'aia e vomitando, e prima di lei altre sedici. «Error, orr, co, co, co!» si lamentava la gallinella, fissando con occhi tristi il sole come se lo vedesse per l'ultima volta. Il membro del collettivo Matrieska le saltellava davanti al becco con in mano una tazza piena d'acqua. «Gallinella mia, piccina, pio, 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 bevi un po' di acquetta!» sopplicava Matrieska seguendola passo passo con la sua tazza. Ma la gallina non ne voleva sapere di bere, agitava il becco e rovesciava la testa all'indietro. Poi cominciò a vomitare sangue. «Signore Gesù!» si mise a strillare Matriena battendosi le mani sui fianchi. «Che cosa le succede? Vomita sangue! Parola mia, non avevo mai visto una gallina dare di stomaco come un uomo!» Furono le parole d'addio per la povera gallinella che stramazzò su un fianco, affondò spossata il becco nella polvere e strabuzzò gli occhi. Levò in alto le due zampe e non si mosse più. Gettata via la tazza, Matrieska si mise a piangere con una voce di basso e così fece la vedova del Pope, nonché presidente del collettivo. Dopo un po' Matriena si accostò all'orecchio della drosdova e le mormorò «Stepanovna, che io possa mangiare la terra se non è vero che qualcuno ha fatto il malocchio ai tuoi polli!» Non si è mai vista una cosa simile. I polli non hanno di queste malattie. Qualcuno ha fatturato i tuoi polli! «Qualcuno che mi vuol male!» disse la vedova rivolgendosi al cielo. «Ma cosa vogliono la mia morte?» Alle sue parole rispose un fragoroso chicchirichi e dal pollaio venne fuori, barcollando come un ubriaco all'uscita di una taverna, un galletto magro e mal ridotto che roteò ferocemente gli occhi sulle due donne, pestò il terreno con le zampe e aprì le ali come un'aquila. Non si levò in volo, ma iniziò a correre intorno al cortile come un cavallo alla cabeza. Al terzo giro si arrestò e vomitò, poi prese a rantolare e a sputar sangue tutti intorno. Infine cadde diverso, sollevando le zampe verso il sole, simile agli alberi di una nave. Le grida delle donne che giarono nel cortile. Dalle stie, in risposta, provenne un chiocciare sordo, uno sbattere d'ali, un confuso tramestio. «E questo non è malocchio?» domandò Trionfante Madriena. «Chiama padre Serghei, che ribenedica laia!» Quella stessa sera, alle sei, mentre il globo infuocato del sole si era come coricato tra le facce tonde dei giovani girasoli, nel cortile del collettivo padre Serghei, priore della chiesa della cattedrale, terminò il tedeum e si tolse la pianeta. La sconsolata vedova baciò la croce e consegnò a padre Serghei un rublo color canarino inzuppato di lacrime. Poi, sospirando, dichiarò che certo Dio era in collera con loro. Padre Serghei aveva tutta l'aria di chissà bene perché Dio sia in collera ma non lo può dire. La piccola folla che si era riunita in strada cominciò a disperdersi e, siccome i polli vanno a letto presto, ancora nessuno sapeva che nel pollaio del vicino della vedova erano morti improvvisamente un gallo e tre polli. Anch'essi avevano vomitato sangue come le bestie della drosdova, ma nel chiuso del pollaio e silenziosamente. Il gallo era caduto a testa in giù e in quella posizione l'aveva lasciato la morte. I polli della vedova morirono tutti subito dopo la funzione religiosa. Quella sera nelle stie, ingombre di mucchi di volatili senza vita, regnava un cupo silenzio. L'indomani mattina la cittadina si svegliò come colpita da un fulmine. La vicenda aveva assunto dimensioni inattese e terribili. A mezzogiorno in tutta la via personalnaia erano rimasti in vita tre polli nell'ultima casetta in cui l'ispettore distrettuale delle tasse aveva affittato un appartamento. Ma anche essi morirono verso luna. Quella sera la cittadina di Steklovsk ronzava e ribolliva come un alveare. La parola moria passava di bocca in bocca. Il nome della drosdova finì prima sul giornale locale Il Combattente Rosso, in un articolo intitolato La peste ha colpito i nostri polli? E quindi a Mosca. La vita del professor Persikov prese un andamento strano, inquieto e movimentato. Per farla breve, lavorare in quella situazione era semplicemente impossibile. Sin dal giorno successivo a quello dell'irruzione di Bronski, Persikov dovette staccare il telefono nello studio dell'istituto e quella stessa sera, percorrendo in tram Locotni Riad, vide la propria immagine sul tetto di un enorme palazzo sormontato dalla scritta Gazzetta Operaia. Spossato, verdognolo e furibondo, il professore salì su un taxi. Dietro a lui, aggrappata alla sua manica, salì anche lo sferico grassone, con la gamba metallica e una coperta per vestito. Nello schermo bianco sul tetto, il professore si riparava con le mani dal raggio violetto. Poco dopo, fu la volta della scritta luminosa, il professor Persikov è intervistato in auto dal nostro famoso reporter, il capitano Stepanov. E in effetti, un instabile automobile sfrecciò sulla volcionca davanti alla chiesa di Cristo Salvatore. Al suo interno, il professore si dimenava, con l'aspetto di un lupo braccato dai cacciatori. «Sono diavoli, non uomini», borbottò tra i denti lo zoologo. Quella stessa sera, tornato finalmente a casa, sulla precistenca, Persikov ricevette da Maria Stepanovna 17 biglietti con i numeri telefonici di tutti quelli che avevano chiamato durante la sua assenza, nonché una veemente dichiarazione verbale da parte della stessa Maria Stepanovna. La brava donna non ce la faceva più. Il professore avrebbe voluto stracciare i biglietti, ma non lo fece, perché sotto uno dei numeri telefonici aveva letto «commissario del popolo per la sanità». «Ma che cosa gli ha preso?» si stupì sinceramente quel bislacco di uno studioso. Alle dieci e tre quarti di quella stessa sera suonò il campanello, e il professore fu costretto a concedere un colloquio ad un personaggio di accecante eleganza, sulla cui carta da visita era stampato, senza nome e cognome, plenipotenziario capo per le sezioni commerciali delle rappresentanze straniere presso la Repubblica dei Soviet. «Vada al diavolo!» ruggì Persikov, gettando la lente d'ingrandimento e alcuni diagrammi sul panno verde del tavolo. Poi però disse a Maria Stepanovna «Faccia entrare nel mio studio questo onnipotente signore». «In che cosa posso servirla?» domandò Persikov con un tale tono che il plenipotenziario ne fu alquanto scosso. Persikov sollevò gli occhiali sulla fronte, poi li riportò sul naso e tornò a fissare il visitatore. Costui era così lucido da sembrare smaltato e risplendeva di pietre preziose. All'occhio destro portava il monocolo. «Che brutto muso!» pensò Persikov per chissà quale ragione. L'ospite affrontò il discorso alla lontana e chiese il permesso di fumare un sigaro, così che Persikov fu costretto, sia pur a malincuore, a permettergli di sedere. L'ospite prese allora scusarsi lungamente per essere giunto ad un'ora così tarda. «Del resto non c'è modo di acchia... cioè volevo dire di trovare il signor professore!» e ridendo sobbalzava come una iena. «Sì, sono molto impegnato», rispose seccamente il professore, e per la seconda volta l'ospite fu colto da una sorta di crampo. Ciò non di meno, proseguì, si era permesso di disturbare l'illustre studioso. «Perché sa, il tempo è denaro e il sigaro non dà fastidio al professore?» «Mmm, rispose Persikov. Ma lei, professore, ha davvero scoperto il raggio della vita?» «Ma di quale vita sta parlando? Sono tutte frottoli di gazzettieri», disse animatamente Persikov. «Certo, certo! Comprendo perfettamente la sincera modestia tipica di tutti i veri studiosi, non ci sono problemi. Oggi sono arrivati dei telegrammi. Nelle grandi città del mondo, a Varsavia e a Riga, ad esempio, si è già a corrente del raggio. Il nome del professor Persikov è nato ormai in tutto il mondo. Tutto il mondo segue il lavoro del professor Persikov con il fiato sospeso. Ma tutti sanno benissimo quanto sia difficile la situazione degli studiosi qui nella Russia sovietica. «Entre nous, soit dit! Non ci sono estranei qui, vero?» Purtroppo in questo paese non sanno apprezzare i lavori scientifici. Proprio per questo motivo vorrei scambiare due parole con lei. Vede, uno stato estero le offre un aiuto del tutto disinteressato per i suoi studi di laboratorio perché, come dice la Bibbia, non bisogna gettare le perle ai porci. A questo stato sono ben note le vicissitudini sofferte dal professore negli anni 19 e 20, al tempo di questa rivoluzione. Il tutto naturalmente nel più rigoroso segreto. Il professore informerà questo stato del risultato del suo lavoro venendone in cambio finanziato. Ad esempio, il professore ha costruito un apparecchio di cui sarebbe importante studiare i disegni. L'ospite strasse dalla tasca interna della giacca un candido pacchetto di banconote. Il professore potrebbe ricevere subito un anticipo, un'inezia, diciamo 5000 rubli e niente ricevuta, neanche a parlarne sarebbe offensivo. «Fuori!» gridò improvvisamente Persikov in maniera così terribile che il pianoforte del salotto emise un suono sui tasti acuti. L'ospite scomparve con una tale velocità che un minuto dopo, ancora tremante di indignazione, lo stesso Persikov quasi credeva che si fosse trattato di un'allucinazione. «E queste calosce?» sbraitò. «Le ha dimenticate!» rispose tremando Maria Stepanovna. «Le butti via!» «Come posso buttarle via se torna a richiederle?» «E allora le consegni al comitato condominiale, con una ricevuta, che non si senta più l'odore di queste calosce, se le tenga il comitato le calosce di quella spia!» Maria Stepanovna si fece il segno della croce, prese quelle magnifiche calosce di pelle e tenendole in mano uscì dalla porta di servizio. Si fermò alcuni istanti dietro la porta, mise le calosce nel ripostiglio e rientrò. «Gliele ha date?» «Sì, certo». «Mi dia la ricevuta!» «Ma Vladimir Patevici, il presidente del comitato è analfabeta!» «Subito la voglio questa ricevuta, che trovi qualche figlio di cane capace di mettere una firma!» Maria Stepanovna si limitò a scuotere la testa, uscì e ritornò dopo un quarto d'ora con un biglietto. «Ricevuto dal professor Persikov un paio di calosce, Colezov! E questo che cos'è?» «Un gettone, signore!» Persikov calpestò con i piedi il gettone e pose la ricevuta sotto un fermacarte. Poi un pensiero oscurò la sua fronte prominente. Corse al telefono, chiamò Pankrat all'istituto e gli chiese «È tutto a posto?» Pankrat biascicò qualcosa da cui si poteva capire che a suo giudizio tutto andava bene, ma Persikov non si tranquillizzò che per poco. Accigliato, afferrò nuovamente il telefono e disse «Passatemi la… come diavolo si chiama? La Lobianca!» «Grazie. Non so con chi di voi parlare, comunque sono venute da me delle persone sospette in calosce». «Sì, Persikov, professore della quarta università!» Ma il ricevitore dall'altra parte interruppe bruscamente la conversazione e Persikov si allontanò dal telefono imprecando tra i denti. «Vuole del tè Vladimir Ipatevich», si informò timidamente Maria Stepanovna affacciandosi nello studio. «Non voglio nessun tè!» «Mmmmm, ma che vadano al diavolo, sono tutti idrofobi in questa città!» Esattamente dieci minuti dopo, il professore ricevette nel suo studio dei nuovi ospiti. Uno di questi, grassoccio, molto cortese e gradevole, indossava un modesto trench militare e pantaloni da cavallerizzo. Sul suo naso poggiava, come una farfalla di cristallo, un pants knee. Nel complesso ricordava un angelo con le scarpe di vernice. Il secondo era un piccoletto tremendamente cupo, con abiti borghesi che però li impacciavano visibilmente. Il terzo ospite si comportò in maniera singolare. Non entrò, infatti, nello studio del professore, ma si fermò nella penombra dell'anticamera. Di lì, però, poteva osservare di infilata lo studio illuminato e pieno di fumo. Sul viso di quest'ultimo, pure vestito in borghese, era in bella vista un pants knee dalle lenti affumicate. I due entrati nello studio tormentarono Persicov facendo domande sui 5.000 rubli, osservando il biglietto da visita del plenipotenziario e pretendendo che il professore lo descrivesse accuratamente. «Che diavolo ne so», burbottò Persicov. «Avevo una fisionomia detestabile, da degenerato». «Con un occhio di vetro?» chiese il piccoletto con voce rauca. «Ma che ne so io? No, forse no, gli occhi anzi erano mobilissimi». Rubinstein si rivolse interrogativamente l'angelo al piccoletto in borghese. Ma quello, sempre più accigliato, scosse negativamente la testa. «Rubinstein non paga senza ricevuta. No, non è lavoro da Rubinstein, c'è sotto qualcosa di più grosso». La storia delle calosce suscitò negli ospiti un vivace interesse. L'angelo chiamò l'ufficio del condominio e diede delle concise disposizioni. La direzione politica di Stato convoca immediatamente con le calosce il segretario del comitato condominiale Colesov nell'appartamento del professor Persikov. Subito Colesov, pallidissimo, sopraggiunse nello studio tenendo in mano le calosce. «Vasenka!» L'angelo chiamò a voce bassa quello che era rimasto seduto nell'anticamera. Vasenka si alzò pigramente e arrivò ciondolando nello studio. Le lenti affumicate avevano completamente inghiottito i suoi occhi. «Beh!» chiese, laconico e sonnolento. «Le calosce!» Gli occhi fumosi scivolarono sulle calosce e Persikov ebbe l'impressione che per un istante sotto le lenti scintillasse uno sguardo tutt'altro che sonnolento, anzi, agotissimo. Ma fu cosa di un istante. Gli occhi tornarono immediatamente a spegnersi. «Dunque, Vasenka?» Il personaggio chiamato Vasenka rispose pigramente. «Dunque cosa?» «Queste sono le calosce di Pelenshkovsky, nessun dubbio.» Il fondo del condominio venne così ben presto privato del regalo del professor Persikov. Le calosce sparirono in fogli di giornale. L'angelo in trench, estremamente soddisfatto, si alzò. Strinse la mano a Persikov e pronunciò perfino un piccolo speech in cui si rendeva onore al professore. Il professore poteva star tranquillo, nessuno più l'avrebbe infastidito, né all'istituto né a casa. Sarebbero state prese delle misure. Il suo apparecchio sarebbe stato al sicuro. «E non potrebbe far fucilare i reporters?» chiese Persikov, guardandolo da sopra gli occhiali. Questa domanda divertì straordinariamente gli ospiti. Non solo il corrucciato piccoletto, ma anche l'affumicato spilungone sorrise nell'anticamera. L'angelo, tutto raggiante, spiegò che purtroppo la cosa non era possibile. «Ma chi è dunque quel mascalzone che è venuto qui da me?» I tre smisero di sorridere e l'angelo spiegò evasivamente che si trattava semplicemente di un imbroglione di scarsa importanza. Non valeva la pena che il professore si preoccupasse. Tuttavia, il cittadino professore era pregato di serbare il più assoluto silenzio su quanto era avvenuto quella sera. Gli ospiti uscirono. Persikov tornò nello studio, ma non riuscì ad occuparsi dei suoi diagrammi perché la spia rossa del telefono si accese ed una voce femminile offrì al professore, nel caso volesse sposare un'interessante e focosa vedova, un appartamento di sette stanze. Persikov gridò nel ricevitore «Le consiglio di farsi curare dal professor Rossolimo», ma subito dopo ricevette un'altra telefonata. Questa volta il professore fu costretto a placarsi. Era un personaggio piuttosto noto del Cremlino che si informò a lungo e con simpatia del suo lavoro, manifestando anche il desiderio di visitare il laboratorio. Persikov staccò la cornetta e si allontanò dal telefono, asciugandosi la fronte. Ma proprio in quel momento, nell'appartamento sovrastante, tuonarono le trombe ed echeggiarono i lamenti delle valchirie. L'apparecchio radio del direttore della fabbrica tessile si era sintonizzato con il concerto wagneriano del Bolshoi. Nell'assordante frastuono proveniente dal soffitto, Persikov dichiarò a Maria Stepanovna che avrebbe denunciato il direttore, gli avrebbe anche distrutto la radio e se ne sarebbe andato via da mosca in capo al mondo se necessario, perché era evidente che stavano facendo di tutto per costringerlo a ciò. Dopodiché spaccò la lente d'ingrandimento, si coricò sul divano dello studio e si addormentò, accompagnato dalla deliziosa esibizione di un celebre pianista del Bolshoi. Le sorprese continuarono anche il giorno seguente. Raggiunto in tram l'istituto, Persikov trovò nel portico uno sconosciuto con in testo una bombetta verde alla moda. Costui fissò attentamente Persikov, ma non gli rivolse alcuna domanda, cosicché il professore non reagì. Ma nell'atrio dell'istituto, oltre ad un sempre più smarrito pancrat, gli si elevò incontro anche una seconda bombetta che lo salutò cortesemente. «Buongiorno, cittadino professore!» «Ha bisogno di qualcosa?» domandò minocciosamente Persikov, togliendosi il soprabito con l'aiuto di Pankrat. La bombetta si affrettò a tranquillizzare il professore, sussurrando con voce soave che non c'era ragione di inquietarsi. Lui, la bombetta, cioè, si trovava lì proprio per sollevare il professore dal peso di visitatori importuni. Il professore poteva stare tranquillo non solo riguardo alla porta dello studio, ma anche alle finestre. Dopodiché, lo sconosciuto ripiegò un attimo il risvolto della giacca, mostrando al professore un distintivo. «Certo che siete organizzati come si deve voi altri», mugugnò Persikov, che poi aggiunse ingenuamente. «Ma che cosa mangerete qui?» A questa domanda la bombetta ridacchiò e spiegò che l'avrebbero sostituito nel corso della mattinata. Il professore ricevette due visite dal Cremlino. Poi fu la volta di alcuni studenti che gli si presentarono per gli esami. Furono bocciati tutti, sino all'ultimo. I loro visi esprimevano una sorta di superstizioso terrore nei confronti di Persikov. «Andate a fare gli autisti, non potete occuparvi di zoologia», si udì dallo studio. «È severo?» domandò la bombetta a Pankrat. «O Dio ci salvi», rispose Pankrat. «Anche quei pochi che ce la fanno escono barcollando, distrutti, e poi subito a sbronzarsi in birreria». Sprofondato nelle sue attività, il professore per tre giorni non si accorse di nulla al mondo, ma il quarto giorno una voce acuta e stridula proveniente dalla strada lo riportò alla vita reale. «Vladimir Patevich!» risuonò la voce attraverso la finestra dello studio che dava so via Erzen. La voce riuscì nel suo intento. Il professore si era troppo strapazzato negli ultimi giorni e proprio in quel momento si stava riposando, seduto su una poltrona, fumando e guardandosi pigramente intorno con gli occhi cerchiati birosso. Era veramente sfinito. Fu quindi con una certa curiosità che guardò fuori dalla finestra e scorse sul marciapiede Alfred Bronski. Il professore riconobbe subito il multititolato intestatario del biglietto da visita per via del cappello a punta e del block notice. Bronski si inchinò rispettosamente con garbo alla finestra. «Ah, e lei?» disse il professore, che non aveva più la forza di adirarsi ed era persino curioso di scoprire che cosa ancora sarebbe successo. Al riparo della finestra non aveva paura di Bronski. Subito la bombetta che stazionava in permanenza sulla strada drizzò l'orecchio in direzione di Bronski, sul viso del quale sbocciò un sorriso adulatorio. «Un minutino, caro professore!» prese a dire Bronski dal marciapiede a voce piuttosto alta. «Vorrei rivolgerle una sola domanda di carattere strettamente zoologico, me lo permette?» «Prego», rispose conciso e ironico Persikov e pensò. Eppure questo mascalzone ha qualche cosa d'americano. «Che cosa pensa in merita ai polli, professore?» gridò Bronski, mettendo la mano ad imbuto. Persikov si stupì. Sedette sul davanzale, poi scese, premette un pulsante e gridò, indicando con un dito la finestra. «Pankrat, fa salire quel tipo che è giù sul marciapiede!» Quando Bronski fece la sua apparizione nello studio, Persikov estese la sua benevolenza al punto di grugnirgli un «si sieda!» e Bronski, sorridendo estasiato, sedette sullo sgabello girevole. «Mi spieghi un po', cominciò il professore. Lei davvero scrive per tutti quei giornali?» «Proprio così?» rispose rispettosamente Alfred. «Quel che non riesca a capire come lei possa scrivere se non è neppure capace di parlare in russo. Che cosa diavolo significa un minutino e in merito ai polli?» Lei voleva certo dire «riguardo ai polli». Bronski ebbe una risatina debole e rispettosa. «Valentin Petrovich corregge». «Chi è questo Valentin Petrovich?» «È il responsabile del settore letterario». «Ma va bene, del resto io non sono un letterato. Lasciamo da parte questo Petrovich. Che cosa esattamente vuole sapere riguardo ai polli?» «Tutto quello che mi vorrà dire, professore». Al che Bronski si armò di matita. Gli occhi di Persikov scintillavano trionfanti. «Lei ha sbagliato a rivolgersi a me. Io non sono uno specialista di pennuti. Avrebbe dovuto consultare Melian Ivanovich-Portugalov, della prima università. Io ne so abbastanza poco». Bronski sorrise entusiasta, facendo intendere di aver afferrato lo scherzo del caro professore. «Scherza, sa poco, dice», annotò nel block notice. «Del resto, come vuole lei. I polli, o crestati, sono uccelli dell'ordine dei gallinacei. Fanno parte della famiglia dei fagiani o fasianidee». Cominciò il professore a voce alta e senza guardare Bronski, ma un punto lontano, imprecisato, che sembrava sottintendere migliaia di persone. Della famiglia fasianidee. Si tratta di uccelli con una cresta di pelle carnose con due protuberanze sotto la mandibola inferiore. In realtà alcuni ne hanno una sola al centro del mento. Che altro ancora? Le ali sono corte e arrotondate. La coda è di media lunghezza un po' scalettata e persino direi a forma di tetto. Le penne centrali invece sono curve, simili a falci. «Pancrat, portami il modello 705 dello studio dei modelli, il gallo sezionato». Ma no, questo per lei non è importante, vero Pancrat? Lascia perdere quel modello. Le ripeto, non sono uno specialista, vada da Portogalov. Vede, io personalmente conosco sei tipi di polli selvatici, ma Portogalov ne conosce certo di più. In India e nell'arcipelago malese, ad esempio, il gallo di Banca o Casintar vive alle falde dell'Himalaya e in tutta l'India nella Sam in Birmania. Il gallo dalla coda forchetta o Gallus Varius vive invece a Lomboka, Zumbhava e Flores. Nell'isola di Java si trova invece il notevole gallus Aereus. Nel sud-est dell'India le posso raccomandare il bellissimo gallo di Zonnerath. Poi le mostrerò il disegno. Per quel che riguarda Ceylon vi si trova il gallo di Stanley e assente nel resto del mondo». Bronski sedeva con gli occhi stralonati e scriveva, scriveva. «Le interessa qualche cosa ancora?» «Vorrei sapere qualche cosa riguardo alle malattie dei polli», mormora Bronski. «Io non sono uno specialista, dovrebbe chiedere a Portogalov. Comunque vediamo un po'. Tenie, zecche, pidocchi, pulci, colera dei polli, infiammazione, crampo difterica delle mucose, pneumonomicosi, tubercolosi, tigna dei polli e che altro». Al professore scintillavano gli occhi. «Intossicazioni varie, tumori, morbo inglese, riterizi a reumatismi, anche il fungo acorion scenniaini, una malattia molto interessante. Sulla cresta appaiono delle piccole macchie simili a muffa». Bronski si asciudò il sudore con un fazzoletto colorato. «E qual è, secondo la sua opinione, la causa dell'attuale catastrofe?» «Di quale catastrofe sta parlando?» «Come non ha letto, professore?» si stupì Bronski, che estrasse dalla tasca una pagina sgualcita dell'Isvestia. «Non leggo quotidiani», rispose imbronciato il professore. «E perché mai, professore?» domandò gentilmente Bronski. «Perché scrivono sciocchezze di ogni genere», rispose senza pensare Persikov. «Anche in questo caso, professore?» mormorò piano Bronski spiegando la pagina. «Che cosa?» chiese Persikov alzandosi. Adesso erano gli occhi di Bronski a sfavillare. Con un dito affusolato e lucido, egli indicò un titolo a tutta pagina. «Moria di polli nella Repubblica». «Come?» chiese Persikov, sollevando gli occhiali dalla fronte. Mosca nel giugno 1928. Mosca era sfolgorante. Luci di ogni sorta si accendevano e si spegnevano come in una danza. Nella piazza del teatro balenavano i fanali bianchi degli autobus e le luci verdi dei tram. Sopra l'ex negozio Mure Marie-Lise, al decimo piano, saltellava una donna elettrica e multicolore che lasciava cadere, lettera per lettera, le seguenti parole, anch'esse multicolori. Credito operaio. Nel giardinetto dinanzi al Bolshoi, dove di notte anche la fontana zampillava con spruzzi multicolori, la folla ronzava e si accalcava. Sull'edificio del teatro un gigantesco megafono tuonava. I vaccini dell'istituto veterinario Lafort hanno dato eccellenti risultati. La qualità di polli morti è stata oggi due volte inferiore a quella di ieri. Poi, dopo una sorta di ruggito, il megafono cambiava timbro, sul teatro si accendeva e si spegneva una striscia di luce verde ed il megafono cominciava a lamentarsi con voce di basso. È stata formata una commissione straordinaria per la lotta alla peste dei polli. La commissione è costituita dal commissario del popolo per la sanità, dal commissario del popolo per l'agricoltura, dal responsabile della sezione zootecnia, compagno Ptacia Porosiuk, dai professori Persikov e Portugalov, dal compagno Rabinovich. Nuovi tentativi di intervento. Sghignazzava e singhiozzava come uno sciacallo il megafono. In relazione alla peste dei polli. Il vicolo del teatro, i neglini prospect e l'alu bianca rutilavano di bianco e di violetto. Tutti intorno balenavano fasci di luce, ululavano i clacson, turbinavano mulinelli di polvere. Folti gruppi di passanti si pigiavano contro i muri degli edifici per leggere i grandi manifesti illuminati dalla violenta e rossa luce dei riflettori. Si fasse veramente di vieto alla popolazione di mangiare uova e carne di pollo, i rivenditori privati che tenteranno di farne commercio nei mercati saranno incriminati e tutti i loro beni saranno confiscati. Tutti i cittadini in possesso di uova hanno l'obbligo di consegnarle immediatamente alle sedi rionali della polizia. Su uno schermo posto sul tetto della gazzetta operaia venivano mostrati mucchi altissimi di polli che dei pompieri verdastri e tremanti cospargevano di cherosene. Quindi delle rosse lingue di fuoco apparivano sullo schermo, seguite da pesanti volute di fumo che si levavano stentate, per poi disperdersi ed essere sostituite da una scritta luminosa. Cremazione di polli morti sulla ciodinca tra le sfavillanti vetrine dei negozi aperti, con due intervalli per il pranzo e la cena. Sino alle tre di notte spiccavano, come gli occhi spenti di un cieco, alcune finestre inchiodate che ancora si freggiavano della scritta. Si vendono uova di qualità garantita. Le ambulanze del pronto soccorso del reparto sanitario di Mosca spreciavano frequenti davanti ai poliziotti, superando a sirene spiegate i pesanti autobus. «Ecco un altro che si è rimpinzato di uova marce», commentava la folla. Sulle Petrovski e Lini, il ristorante Empire, rinomato in tutto il mondo, risplendeva di luci verdi e arancioni, ma sui tavoli, accanto ai telefoni portatili, dei cartoncini macchiati di liquore avvisavano i clienti. «Per disposizioni superiori non possiamo servire le omelette, abbiamo ostriche fresche». All'Ermitage, dove dei malinconici lampioncini cinesi brillavano come perle di vetro su un sipario tanto abbagliantemente illuminato da ferire gli occhi, i cabarettisti Shram e Karmanchikov cantavano le strofe scritte dai poeti Ardo e Guev. «Oh mamma, io non lo so, senza le uova come farò?» e si lanciavano in una fragorosa cecietca. Il teatro dedicato al compianto of Sevolod Meyerchold morto, come è noto nel 27, durante le prove del Boris Godunov di Pushkin, nella scena in cui i boiardi nudi precipitano giù dai trapezzi, esponeva invece un'insegna elettrica mobile e multicolore, per annunciare la rappresentazione della pièce dello scrittore Erendorg strage di polli, nell'allestimento di un allievo di Meyerchold, il benemerito regista della Repubblica Hucktermann. Accanto all'acquarium scintillante di pubblicità luminose e adorno di un corpo femminile seminudo, andò in scena sotto un uragano di applausi la rivista «I figli della gallina» dello scrittore Lenivchev. In via Tverskaya, intanto, degli asinelli del circo con i musi ornati da lumini sfilavano portando sul dorso dei manifesti sgargianti. Al teatro Karsh è ripresa la rappresentazione di Chanteclerc di Rostan. I piccoli strilloni strepitavano e ululavano tra le ruote degli automezzi. «Sensazionale scoperta nel sottosuolo! La Polonia prepara una guerra sensazionale! I sensazionali esperimenti del professor Persikov!» Sull'arena scura, grassa e piacevolmente odorosa di letame dell'ex circo Nikitin, il clown bomb, mortalmente pallido, diceva all'uomo pallone Bim. «Io lo so perché sei tanto triste!» «E perché?» pigolò Bim. «Perché ha nascosto le uova sottoterra e la polizia del settore 150 le ha scoperte!» «Ha ha ha ha!» rideva il circo e il sangue circolava ad un tempo allegro e malinconico nelle vene, mentre sotto la vecchia cupola oscillavano trapezzi e ragnatele. «Opla!» gridavano i clown e un cavallo bianco, come il latte, fece la sua apparizione portando nell'arena una donna di incredibile bellezza. Dalle gambe affusolate e in tricò color lampone. Senza guardare nessuno, senza notare nulla, senza reagire alle spinte e alle profferte tenere e caute delle prostitute, solo e ispirato, circonfuso da una fama inattesa, Persikov avanzava sulla mokovaglia verso l'orologio luminoso del maneggio. Qui, distratto e sprofondato nei suoi pensieri, il professore si scontrò con uno strano individuo, vestito in maniera antiquata, urtando dolorosamente con le dita proprio contro il fodero di legno della rivoltella che pendeva alla cintura dello sconosciuto. «Accidenti!» si lamentò Persikov. «Mi scusi!» «Scusi lei!» rispose l'uomo con una voce sgradevole, dopodiché i due si allontanarono nella calca umana. Il professore si diresse verso la precista enka e subito dimenticò l'incidente. Rock Non si è mai saputo con certezza se i vaccini veterinari siano risultati davvero efficaci, se il cordone sanitario intorno a Samara abbia funzionato, se le severe misure prese contro gli incettatori di uova a Kaluga e Voronezh abbiano dato buoni frutti e se la commissione straordinaria istituita a Mosca abbia fatto il suo dovere. È sicuro invece che due settimane dopo l'ultimo colloquio di Persikov con Vronsky, in merito ai polli, l'Unione delle Repubbliche era proprio a terra. Le ultime penne di gallina svolazzavano orfane nei cortili delle cittadine di provincia e facevano venire le lacrime agli occhi. Intanto, negli ospedali anche gli ultimi golosi si stavano ormai liberando delle diarree sanguinose e del vomito. Per fortuna in tutta la Repubblica i morti non furono più di mille. Non ci furono neanche grandi disordini, con l'eccezione di un profeta apparso a Volokolamsk a proclamare che la moria di polli era stata provocata dai commissari del popolo. Ma neanche tale predicazione profetica ebbe particolare successo. Al mercato di Volokolamsk alcuni poliziotti vennero picchiati mentre cercavano di confiscare le uova alle contadine e furono anche infranti i vetri del locale ufficio delle poste e del telegrafo. Per fortuna però le autorità della città presero sollecite misure in seguita alle quali il profeta vide interrotta la sua attività e i vetri del telegrafo furono sostituiti. Giunta nel nord fino a Arkangelsk e Syumin Viselok la moria si arrestò da sola per la semplice ragione che più in là non c'era nulla. Si sa infatti che sul Mar Bianco i polli non vivono. Allo stesso modo la sua corsa si concluse a Vladivostok oltre la quale c'è solo l'oceano. Nel lontano sud la moria scomparve in qualche luogo imprecisato delle distese riarse di Ordobat, Giulfa e Karabulak mentre verso ovest si arrestò in maniera quantomeno sorprendente proprio alle frontiere polacca e rumena. Chissà forse fu effetto del clima differente oppure dei cordoni sanitari predisposti dai vicini governi fatto sta che la moria non andò oltre. La stampa estera si gettò fragorosamente ed avidamente su questo disastro unico nella storia ma nel frattempo il governo delle repubbliche sovietiche lavorava in silenzio e senza sosta. La commissione straordinaria per la lotta alla peste dei polli, ribattezzata commissione straordinaria per la rinascita e lo sviluppo della pollicoltura nella Repubblica, fu ampliata con l'inclusione di tre nuovi membri, si giunse così a sedici. Fu inoltre fondata l'associazione Amici dei Polli, del cui direttivo entrarono a far parte anche Portugalov e Persicov. Sotto i ritratti dei due studiosi apparvero sui giornali titoli di questo genere. Massicci acquisti di uova all'estero e gli Stati Uniti vogliono sabotare la campagna delle uova. In quei giorni furoreggiò per tutta Mosca un veleno corsivo del giornalista Kolechkin che terminava con le parole «Non toccate le nostre uova, signori americani, avete le vostre!». Il professor Persicov era estenuato dall'eccesso di lavoro delle ultime tre settimane. La storia dei polli aveva completamente stravolto il corso della sua esistenza, imponendogli un duplice e gravoso impegno. Per intere serate era stato costretto a partecipare alle sedute della Commissione straordinaria per i polli, nonché a sopportare lunghe conversazioni ora con Alfred Bronsky, ora con il grassone meccanico. Persicov aveva anche dovuto, pursi in compagnia del professor Portugalov e dei liberi docenti Ivanov e Bornhardt, anatomizzare e studiare al microscopio i polli alla ricerca del bacillo della peste e persino buttare giù in tre serie un opuscolo, sulle alterazioni epatiche dei polli colpiti dalla peste. Persicov si occupava di questo problema senza particolare fervore, il che del resto è comprensibile se si pensa che la catastrofe dei polli l'aveva distolto da qualcosa di ben più grave ed importante, vale a dire dal raggio rosso. Mettendo a dura prova la sua salute, anche senza di questo piuttosto malferma, sottraendo ore al sonno e ai pasti, talvolta senza neppure tornare a casa, ma limitandosi a dormire un po' sul divano nello studio dell'istituto, Persicov trascorreva notti intere al microscopio e all'apparecchio del raggio. Verso la fine di luglio l'emergenza si attenuò al quanto. L'attività della ribattezzata commissione assunse un corso consuetudinario e Persicov tornò al lavoro interrotto. I microscopi presero a studiare nuovi preparati e il raggio fece sviluppare con favolosa rapidità le uova di pesce e di rana. Negli ultimi giorni del mese da Königsberg giunsero in aereo delle lenti appositamente ordinate e i meccanici costruirono, sotto il controllo di Ivanov, due nuovi e più grandi apparecchi, nei quali il raggio aveva la larghezza iniziale di un pacchetto di sigarette per poi ampliarsi sino ad un metro. Persicov si fregò le mani soddisfatto e cominciò a preparare complicati e misteriosi esperimenti. Prima di tutto si accordò al telefono con il commissario del popolo per l'istruzione, il quale gli gracchiò la promessa della più totale fiduciosa collaborazione. Quindi sempre al telefono Persicov chiamò il compagno Tatcha Porosiuq, responsabile della sezione zootecnia presso la Commissione Suprema. Anche da Porosiuq Persicov ottenne la stessa cordiale assicurazione d'aiuto. Si trattava in effetti di ordinare all'estero un grosso quantitativo di materiale per il professore. Tatcha disse al telefono che avrebbe immediatamente telegrafato a Berlino e New York. Più tardi una voce importante e carezzevole chiamò dal Cremlino informandosi su come andassero le ricerche del professore e se gli fosse necessaria un'automobile. «No, la ringrazio, preferisco andare in tram», rispose Persicov. «E perché mai?» domandò la voce misteriosa ridacchiando a condiscendente. Con Persicov tutti parlavano o con rispetto e timore o con tono accondiscendente, come ad un bambino troppo cresciuto. «Si va più veloci», rispose Persicov, al che la sonora voce di basso disse «Beh, come vuole lei». Passò ancora una settimana e Persicov, sempre più lontano ormai dalle vicissitudini dei polli, era totalmente assorbito dallo studio del raggio. Le notti insunni e l'eccesso di lavoro avevano reso la sua mente leggera, luminosa, quasi trasparente. Passava quasi tutte le notti all'istituto e le cerchiature rosse non abbandonavano più i suoi occhi. Solo una volta Persicov lasciò il rifugio zoologico per tenere una conferenza sul raggio e i suoi effetti sull'ovocellula. La conferenza ebbe luogo sulla precista Nka, nella sede della CKB, e fu un vero trionfo per il bislacco zoologo. Nella sala delle colonne le lampade ad arco inondavano di luce gli smoking neri degli studiosi e gli abiti bianchi delle donne. Lo scrosciare degli applausi fece staccare pezzi d'intonaco dal soffitto. Sul palco, in un piatto poggiato su un tavolo di vetro accanto alla cattedra, un'unida rana grossa quanto un gatto respirava affannosamente e diveniva sempre più grigia. Dal pubblico piovvero numerosi bigliettini, sette dei quali, di carattere amoroso, furono immediatamente stracciati da Persicov, che venne poi trascinato a forza sul palco del presidente della CKB per rispondere al saluto del pubblico. Persicov salutò irritato, con le mani madide e di sudore, e la cravatta finita dietro all'orecchio sinistro. Dinanzi a lui, centinaia di visi gialli e disparati bianchi erano come immersi in una nuvola di vapore. La fondina gialla di una rivoltella balenò per un istante dietro qualche colonna. Persicov la notò confusamente, ma se ne dimenticò subito. Dopo la relazione, però, scendendo lungo il tappeto rosso della scala, il professore si sentì male improvvisamente. Per un istante lo sfavillante lampadario del vestibolo si oscurò e tutto divenne confuso. Persicov fu assalito da un senso di nausea, da uno strano bruciore, come se il sangue gli scorresse denso e bollente sul collo. Con mano tremante si aggrappò al corrimano della scala. «Qualcosa non va, Vladimir Ipatevich?» si precipitarono da ogni parte delle voci ansiose. «Niente, niente», rispose Persicov un po' sollevato. «Sono solo stanco. Sì, ecco, vorrei un bicchier d'acqua». Era una soleggiata giornata d'agosto. Innervosito dalla luce, il professore abbassò le tende. Un riflettore curvo gettava un fascio di luce intensa sul tavolo di vetro ricoperto di strumenti e lenti. Stanchissimo, appoggiato allo schienale della poltrona girevole, Persicov fumava e attraverso le volute di fumo, i suoi occhi estenuati ma soddisfatti fissavano lo sportello semichiuso dell'apparecchio in cui giaceva il fascio di luce rossa. Qualcosa nell'apparecchio riscaldava ulteriormente l'aria, già di per sé afosa e impura del laboratorio. «Bussarono alla porta?» «Sì?» domandò Persicov. La porta cigolò leggermente ed entrò Pankrat, che si mise sull'attenti dinnanzi alla divinità e, tremante di paura, disse «Rock è venuto a cercarla, signor professore!» Una specie di sorriso apparve sul viso dello studioso che socchiuse gli occhi e disse «Davvero interessante, ma sono occupato». «Dice di avere una lettera ufficiale da parte del cremlino». «Rock con una lettera? È una combinazione molto singolare», commentò Persicov che poi aggiunse «Comunque va bene, fallo entrare». «Subito, signore», rispose Pankrat svanendo oltre la porta, che dopo un istante cigolò nuovamente. Sulla soglia apparve un uomo. Persicov fece stridere la vita della poltrona e osservò il visitatore di traverso da sopra la spalla e tenendo gli occhiali abbassati. Persicov sapeva poco della vita di ogni giorno, che del resto non lo interessava affatto, eppure persino lui colse immediatamente il lato essenziale e più caratteristico del nuovo venuto. Costui era vestito decisamente all'antica. Nel 1919 sarebbe stato perfettamente normale per le vie della capitale, nel 1924 lo si sarebbe potuto considerare un po' strano, ma nel 1928 era del tutto fuori luogo. In un tempo in cui persino la parte più arretrata del proletariato, i fornai, indossava la giacca, in cui anche il trench, questo antiquato indumento scomparso dopo il 1924, era diventato una rarità a mosca, in questo tempo dunque lo sconosciuto indossava una giacca di cuoio a doppio petto, pantaloni verdi, mollettiere e stivaletti. Al fianco gli pendeva una vecchia e enorme pistola Mauser, infilata in una gialla e mal ridotta fondina. Il viso del nuovo venuto fece a Persikov la stessa impressione che faceva a tutti, vale a dire un'impressione eccezionalmente sfavorevole. I suoi occhietti guardavano ogni cosa con stupore e arroganza al tempo stesso. Le guance erano rasate al punto di apparire bluastre e persino le corte gambe dai piedi piatti avevano qualcosa di impudente. Persikov si accigliò. Fece ferocemente stridere la vite e guardando l'ospite non più al di sopra ma attraverso gli occhiali disse «Lei ha con sé una lettera, me la faccia vedere». Il visitatore era evidentemente sbalordito di quello che vedeva. Non si può certo dire che fosse un individuo facile a confondersi, ma in quella circostanza si confuse. A giudicare dai suoi occhi, quel che sopra ogni altra cosa lo colpiva erano i dodici scaffali della libreria, zeppi di libri fino al soffitto. E poi certo, gli apparecchi nei quali baluginava, come in una visione infernale, un raggio purpureo che si rifletteva nei vetri. Lo stesso Persikov, in penombra accanto al cono di luce proveniente dal riflettore, appariva strano e maestoso nella sua poltrona girevole. L'intruso fissò il professore con uno sguardo in cui, nonostante l'arroganza, balenavano scintille di rispetto, ma non esibì alcune lettera e disse «Sono Aleksandr Semyanovich Rock». «E con ciò?» «Sono il primo dirigente del Sovcos Raggio Rosso», chiarì l'uomo. «Ebbene, sono venuto da lei compagno per un affare segreto. Interessante, ma sia breve se è possibile». Il primo dirigente del Sovcos Raggio Rosso sbottonò il giaccone ed estrasse un ordine stampato su una spessa magnifica carta, porgendola Persikov. Quindi, senza esservi stato invitato, sedette sullo sgapello girevole. «Stia attento a non toccare il tavolo», disse Persikov con odio. Il visitatore diede un'occhiata intimorita al tavolo, ad un'estremità del quale, in una scura e umida apertura, erano visibili due occhi smorti, smeraldini, di ignota appartenenza. Qualcosa di gelido spirava da quegli occhi. Non appena ebbe finito di leggere il documento, Persikov si alzò e corse al telefono. «Mi scusi, io non capisco. Com'è possibile? Io, senza il mio consenso, senza guida? Sì, ho capito. Che diavolo combinerà costui?». A questo punto l'uomo seduto sullo sgapello si agitò offeso. «Permette, io sono il dir». Ma Persikov gli puntò contro il suo dito a un cino e continuò. «Mi scusi, ma non capisco. In ogni caso, protesto categoricamente. Non darò la mia approvazione a questi esperimenti sulle uova, neppure li ho ancora tentati». La voce gracchiava e crepitava al telefono, e anche di lontano si capiva che parlava al professore con condiscendenza come ad un bambino. Alla fine Persikov paonazzo abbassò fragorosamente la cornitta e disse al muro «Me ne lavo le mani». Il professore tornò al tavolo, riprese in mano il documento, lo lesse prima dall'alto in basso, al di sopra degli occhiali, quindi dal basso verso l'alto attraverso gli occhiali, e infine urlò «Pankrat!». Pankrat apparve sulla porta come un attore che irrompe sulla scena per mezzo di qualche congegno. Persikov lo fissò e sbraitò «Vai fuori, Pankrat!». E Pankrat, senza mostrare alcuna sorpresa, scomparve. Persikov si rivolse allora al visitatore e cominciò a dire «Faccia pure, obbedisco!». «Non è affar mio, non mi interessa più!». Il visitatore fu più stupito che offeso dall'atteggiamento del professore. «Mi scusi, compagno, ma... ma che compagno è compagno!» borbottò accigliato Persikov e tacque. Sul volto di Rock era apparsa un'espressione perplessa. «Mi scu... eh, in ogni caso faccia pure!» lo interruppe Persikov. «Ecco la lampada d'arco attraverso la quale si ottiene con uno spostamento dell'oculare!» e Persikov diede un colpetto al coperchio dell'apparecchio assai simile ad una macchina fotografica. «Un fascio di luce che si può concentrare spostando gli obiettivi. Ecco il numero uno ed ecco il numero due». Persikov spense il raggio e lo accese nuovamente, indirizzandolo sulla superficie di asbesto dell'apparecchio. «E su questa superficie si può disporre quel che si vuole, fare qualsiasi esperimento. Estremamente semplice, non è vero?» Persikov voleva esprimere ironia e disprezzo, ma il suo visitatore, tutto preso ad esaminare con occhi luccicanti l'apparecchio, non se ne accorse. «Però l'avverto», continuò Persikov, «che è bene non esporre la mano al raggio, perché secondo le mie osservazioni questo provoca la crescita dei tessuti epiteliali. Ancora non posso affermare se siano maligni o meno». A queste parole il visitatore nascose lestamente le mani dietro alla schiena, lasciando cadere il berretto di pelle, e osservò le mani del professore. Erano tutte bruciate dallo iodio e la destra era anche fasciata. «E lei come fa, professore?» «Può comprarsi dei guanti di gomma da schvale sul Konecki Prospect», rispose irritato il professore. «Almeno questo non è affar mio». Persikov fissò il visitatore come attraverso una lente di ingrandimento. «Ma lei da dove sbuca fuori? E cosa vuol fare, insomma?» Questa volta Rock si offese seriamente. «Mi scusi, ma... ma sa almeno di che cosa si tratta? Perché vi siate gettati tutti su questo raggio?» «Perché si tratta di una questione della massima importanza». «Ah, della massima importanza! In questo caso, Pankrat!» Pankrat apparve. «Aspetta un attimo, Pankrat, devo pensare!» Pankrat scomparve remissivo. «Io», diceva il professore, «non riesco a capire il perché di tanta fretta e tanta segretezza». «Professore, lei mi fa perdere la bussola», rispose Rock. «Eppure lei sa che i polli sono morti tutti sino all'ultimo». «E con ciò? Vuole farli resuscitare tutti in un attimo e con un raggio ancora non sperimentato?» «Compagno professore», rispose Rock. «Lei mi scombussola, parola d'onore, ma io le dico che noi dobbiamo assolutamente ricostituire la pollicoltura. All'estero già cominciano a scrivere porcherie di ogni tipo su di noi, proprio così!» «Li lasci scrivere!» «Ma questo non è possibile», rispose Rock, scuotendo la testa. «Io vorrei sapere a chi diavolo è venuto in mente di far crescere i polli dalle uova!» «A me», rispose Rock. «A bene! E mi permetta, per quale ragione? E come ha fatto a sapere delle proprietà del raggio?» «Ero alla sua conferenza, professore». «Ma io non ho ancora fatto esperimenti sulle uova! Li sto solo preparando!» «Quant'è vero Dio ce la faremo!» affermò improvvisamente Rock con appassionata convinzione. «Il suo raggio, professore, talmente prodigioso che farebbe anche crescere degli elefanti, altro che pulcini!» «Lo sa che...» cominciò a dire Persikov. «Lei non è zoologo!» «No? O che peccato! Sarebbe stato uno sperimentatore davvero ardito!» «Sì, ma stia attento che rischia un insuccesso e a me fa solo perdere tempo!» «Le restituiremo presto gli apparecchi!» «Quando?» «Non appena avremo ottenuto la prima nidiata!» «Lei è molto sicuro del fatto suo!» «Benissimo! Pankrat!» «Ho degli uomini con me!» disse tre apparecchi più grandi, lasciando al professore solo il primo, quello piccolo, con cui aveva iniziato gli esperimenti. Il crepuscolo estivo era sceso sulla città e aveva invaso l'istituto scivolando nei corridoi. Nel laboratorio risuonavano i passi monotoni di Persikov che a luce spenta misurava la grande stanza spostandosi dalla finestra alla porta, dalla porta alla finestra. Quella sera, uno strano e inspiegabile umore malinconico si era impadronito delle persone e degli animali che vivevano nell'istituto. Le rane avevano intonato, chissà per quale ragione, un concerto particolarmente lamentoso, stridente e di cattivo augurio. Pankrat dovette anche inseguire per i corridoi una biscia sfuggita dal suo terrario e, quando finalmente la catturò, si accorse che l'animale aveva l'aria di essere disposto a fuggire ovunque, purché lontano dall'istituto. Le tenebre si erano ormai infittite, quando dal laboratorio di Persikov risuonò uno scampanellio. Pankrat apparve sulla porta e si trovò di fronte uno strano quadro. Lo studioso stava in piedi nel centro della stanza e guardava i tavoli. Il guardiano tossì senza muoversi. «Ecco qua, Pankrat», disse Persikov indicando un tavolo vuoto. Pankrat si spaventò. Nella penumbra aveva avuto l'impressione che gli occhi del professore fossero gonfi di lacrime. Un fatto inaudito, terribile. «Proprio così, signore», rispose Pankrat piegnucolando e pensò, «era meglio quando te la prendevi con me». «Ecco», ripete Persikov, e le sue labbra tremarono come quelle di un bambino cui è stato sottratto il giocattolo più caro. «Tu sai, Pankrat», continuò Persikov voltandosi verso la finestra, «che mia moglie mi abbandonò quindici anni fa per diventare cantante d'operetta». «E adesso è morta, sembra». «È così la vita, caro Pankrat?» «Mi hanno scritto per comunicarmelo». Le rane gracidavano lamentosamente. Le tenebre avevano quasi ingoiato il professore. «Ecco, era notte. Mosca, fuori. In qualche luogo si accendevano delle sfere bianche». Pankrat, smarrito, angosciato. Era immobile, come sull'attenti. «Vai pure, Pankrat», disse gravemente il professore con un gesto della mano. «Vai pure a dormire, mio caro Pankrat». Era scesa la notte. Pankrat uscì dal laboratorio in punta di piedi, corse nel suo bugigattolo, frugò in un angolo in mezzo al giarpame e ne strasse una bottiglia di vodka già stappata ed un fiato ne tracannò un bicchiere. Ci mangiò su un po' di pane e sale e finalmente nei suoi occhi tornò un barlume di allegria. Più tardi, era quasi mezzanotte, Pankrat sedeva scalzo sulla panca dell'atrio male illuminato e, grattandosi il petto sotto la camicia di cotone, diceva all'insonne bombetta di guardia «Meglio morire che...». «Ma davvero piangeva?», chiedeva con curiosità la bombetta. «Quanto è vero iddio?», confermava Pankrat. «Uno scienziato tanto famoso», concordò la bombetta, «anche se si sa alle rane non van bene al posto delle donne». «È proprio vero», convenne Pankrat. Penso un po' ed aggiunse «Mi sta venendo in mente di far venire qui mia moglie, perché mai dovrebbe vivere in campagna?». «Il problema è che proprio non li sopporta a quei rettili». «Non a tutti i torti sono proprio delle schifezze», commentò la bombetta. Neppure un suono proveniva dal laboratorio dello studioso, né da sotto la porta filtrava la luce. Tutto era buio e silenzioso. Quel che avvenne nel South Coast Nella provincia di Smolensk nessun periodo dell'anno è bello quanto l'agosto inoltrato, e l'estate del 1928 fu davvero magnifica, preceduta a tempo debito in primavera da piogge e quindi benedetta da un bel sole ed un eccellente raccolto. Nell'ex proprietà dei Seremetev le mele maturavano, i boschi verdeggiavano, i campi erano macchie dorate. Anche l'uomo diventa migliore nel grembo della natura e persino Alexander Semjanovic Rock sembrava meno sgradevole che in città. Non indossava più quel detestabile giaccone di cuoio. Il suo viso era abbronzato, con riflessi ramati. La semplice camicia di cotone, sbottonata, mostrava un petto ricoperto da fitti peli neri. Indossava grossolani pantaloni di tela. Anche i suoi occhi erano più sereni, come rabboniti. Alexander Semjanovic scese correndo dal portico, sul quale, sotto una stella rossa, era appesa la scritta «Sovcos, raggio rosso» e si verso il camioncino che aveva trasportato i tre apparecchi e la scorta armata. Alexander Semjanovic fu indaffarato tutto il giorno con i suoi aiutanti a sistemare gli apparecchi nella serra dell'ex giardino invernale dei Seremetev. Verso sera tutto era a posto e sotto il soffitto di vetro venne accesa un'opaca sfera bianca. Gli apparecchi furono poggiati su una base di mattoni e il meccanico, giunto insieme all'attrezzatura, dopo aver a lungo lavorato sulle viti luccicanti, accese sul fondo di asbesto delle casse nere, il raggio misterioso. Alexander Semjanovic si prodigava, saliva sulla scala, controllava i cavi. L'indomani lo stesso camioncino scaricò tre casse di magnifico compensato, ricoperte di etichette e di scritte nere che risaltavano sul fondo chiaro. Vorsicht, Ayer. Perché ne hanno mandate così poche? Si meravigliò Alexander Semjanovic che non smise però di darsi da fare, iniziando subito a disfare le casse. A questa operazione, che ebbe luogo nella stessa sera, presero parte lo stesso Alexander Semjanovic, sua moglie Mania, donna di inconsueta grassezza, un orbo, ex giardiniere dei Seremetev e ora impiegata a vita del South Coast con le funzioni molto vaghe di custode, e infine Dunia, la donna delle pulizie. Non era certo come a Mosca. Qui tutto aveva un carattere più semplice, familiare e amichevole. Alexander Semjanovic dava disposizioni e guardava amorevolmente le casse, che alla dolce luce del tramonto filtrante attraverso il soffitto della serra sembravano proprio un bel regalo. Il custode aveva pacificamente appoggiato il fucile alla porta e forzava con le tenaglie le giunture e il rivestimento metallico delle casse. Tutti facevano un gran maccano e sollevavano mulinelli di polvere. Alexander Semjanovic armeggiava vicino alle casse, strascicando i sandali. «Più piano, per favore», disse al custode. «Prudenza, non vede che sono uova». «Non ci sono problemi, adesso io...», gorgogliò il guerriero locale, continuando a trapanare. «Trrrr...», e la polvere si alzava. Le uova risultarono imballate a regola d'arte. Sotto il coperchio di legno c'era uno strato di carta paraffinata, poi uno di carta assorbente, quindi ne seguiva un altro molto spesso di trucioli, e infine la segatura, da cui spuntavano le bianche estremità delle uova. «È proprio un imballaggio fatto da stranieri», disse affettuosamente Alexander Semjanovic, passando la mano nella segatura. «Altro che i nostri...» «Mania, fai attenzione o finirai col romperle». «Sei diventato matto, Alexander Semjanovic», rispose la moglie. «Che cos'è, oro?» «O credi che non abbia mai visto delle uova?» «Però come sono grandi!» «Roba straniera», disse Alexander Semjanovic, deponendo le uova su un tavolo di legno. «Non sono certo come le uova di noi contadini, devono essere tutte bramaputra, accidenti, uova tedesche». «La solita storia», confermò il custode, ammirando le uova. «Non capisco, però. Perché sono così sporche?» disse perplesso Alexander Semjanovic. «Mania, stai attenta tu, un attimo. Che continuino a disfare le casse, vado a telefonare». Alexander Semjanovic attraversò il cortile ed entrò nell'ufficio del Sovcos. Il telefono incominciò a suonare nel laboratorio dell'Istituto di Zoologia, a Mosca. Il professor Persikov si arruffò i capelli e andò a rispondere. «Sì?» domandò. «La chiamano dalla provincia», comunicò una voce di donna leggermente sibilante. «Pronto? Chi parla?» chiese con disgusto il professore alla nera bocca del telefono. Qualcosa sbattì. Quindi una lontana voce maschile chiese ansiosamente. «Bisogna lavarle le uova, professore?» «Cosa? Come dice? Che cosa ha chiesto?» si irritò il professore. «Da dove chiama?» «Da Nikolsk, provincia di Smolensk», rispose la cornetta. «Non capisco niente. Non conosco questo posto. Ma chi è che parla?» «Rock», rispose severamente la cornetta. «Che Rock?» «Ah, sì, è lei. Che cosa vuol sapere?» «Bisogna lavarle le uova. Mi hanno spedito dall'estero una partita di uova di gallina.» «Ebbene? Sono tutte ricoperte di non so che porcheria.» «Che razza di confusione sta facendo? Come possono essere ricoperte di porcheria? Che cosa dice?» «Beh, forse un po' escrementi secchi o qualcosa del genere.» «Dunque non bisogna lavarle.» «Certo che no, non è necessario. Ma vuol proprio mettere le uova negli apparecchi.» «Certo», rispose la cornetta. «Mh», commentò Persikov. «Ci sentiamo.» E la cornetta fu rumorosamente riagganciata. «Ci sentiamo», ripetè con odio Persikov al libero docente Ivanov. «Che gliene pare di questo individuo, Piotr Stepanovich.» Ivanov si mise a ridere. «Era lui? Immagino che farà una bella frittata con quelle uova.» «Già», disse Persikov furioso. «Ma se lo immagina Piotr Stepanovich.» «Certo, è più che possibile che sul deuteroplasma dell'uovo di gallina il raggio eserciti la stessa azione che abbiamo verificato sul plasma dei rettili.» «È possibile che dalle uova nascano i pulcini, certo, ma il punto è che né lei né io possiamo sapere che razza di polli verranno fuori. Magari non serviranno a nulla, potrebbero morire dopo due giorni, oppure non essere neanche commestibili, non posso neanche garantire che riusciranno a stare in piedi, potrebbero avere le ossa fragili.» Persikov si accalorava sempre di più. Agitava la mano e piegava le dita. «Sì, è proprio così», convenne Ivanov. «Lei può garantire, Piotr Stepanovich, che i polli saranno fecondi? Magari questo individuo otterrà galline grandi come cani, ma sterili, e per averne la progenie dovrà aspettare il giudizio universale.» «A ragione, non è possibile garantire nulla», concordò Ivanov. «E che disinvoltura!» continuò a tormentarsi Persikov. «Che presunzione! E pensi che proprio io dovrei istruire questo furfante?» e indicò il documento presentato da Rock, che giaceva nel caos del tavolo degli esperimenti. «Ma come farò a distruirlo, quell'ignorante, se io stesso non posso affermare nulla di preciso su questo argomento?» «Ma non avrebbe potuto rifiutare», domandò Ivanov. Persikov divenne paonazzo, afferrò il documento e lo mostrò ad Ivanov. Quello lesse e ridacchiò ironicamente. «Eh già», disse in tono allusivo. «E pensi, io attendo la mia ordinazione da due mesi e non ne so nulla, quello invece ha subito ricevuto le uova e tutto l'aiuto possibile!» «Vedrà Vladimir Patic che non riuscirà a combinare nulla e presto ci riporteranno gli apparecchi. Speriamo bene, intanto i miei esperimenti sono fermi.» «Già, è un bel guaio. Io ho tutto pronto.» «Ha ricevuto gli scafandri?» «Sì, proprio oggi.» Persikov si calmò un po' e riprese animo. «Penso che potremmo chiudere ermeticamente le porte del laboratorio e aprire invece le finestre.» «Certamente», approvò Ivanov. «Tre maschere?» «Sì, tre.» «Se è così, potremmo chiamare qualche studente e dargli la terza maschera.» «Si potrebbe chiamare Greenmut?» «È quello che adesso lavora da lei sulle salamandre?» «Sì, d'accordo, anche se mi permetta. Questa primavera non ha saputo spiegarmi come è fatta la viscica natatoria dei Gymnodontes», aggiunse Vendicativo Persikov. «Non è male, è un buono studente.» Ne prese le difese Ivanov. «Bisognerà star sveglio un'altra notte», proseguì Persikov. «Ma mi raccomando, Piotr Stepanovich, controlli la qualità del gas, altrimenti ci manderanno di nuovo qualche porcheria.» «Non si preoccupi», disse Ivanov con un gesto della mano. «Ho già controllato ieri. Devo riconoscere che questa volta il gas è ottimo.» «So che cosa l'ha provato?» «So delle rane comuni. Muoiono in un attimo. Però se lei vuole, potremmo fare diversamente. Faccia richiesta alla GPU per avere una rivoltella elettrica.» «Ma io non so maneggiarla.» «Me ne incarico io», rispose Ivanov. «Una volta l'ho provata sul fiume Kliasma, così, per scherzo, insieme con uno della GPU che viveva vicino a me.» «È un aggeggio semplicemente formidabile, silenzioso, e a cento passi non fallisce un bersaglio.» «Lo usavamo per sparare alle cornacchie.» «Sì, penso che il gas non sia necessario.» «È un'idea ingegnosa, molto.» Persikov andò al telefono e gracchiò. «Passatemi la... come diavolo si chiama... la lo bianca.» Erano giornate straordinariamente calde. Sui campi gravava un'afa trasparente, umida. Le notti, invece, erano stupende, stregate, verdi. La luna splendeva e diffondeva un'indescrivibile bellezza sull'ex tenuta dei Seremetev. Il palazzo Sofkos scintillava come zucchero. Le ombre si rincorrevano nel parco e l'oscurità profonda degli stagni era solcata a metà da un'obliqua colonna di luce lunare. Si sarebbe potuto senza difficoltà leggere le Isvestia, ad eccezione della rubrica scacchistica che, come tutti sanno, è stampata in caratteri minuscoli. Ma è comprensibile che nessuno in notti simili volesse leggere le Isvestia. Dunia, la donna delle polizie, capitò casualmente nel boschetto dietro il Sofkos, dove, per una singolare coincidenza, si trovava anche l'autista dai baffi rossicci dello sgangherato camioncino Sofkosiano. Quel che i due facessero nel boschetto la storia non lo dice. Comunque trovarono rifugio nell'incerta ombra di un olmo, su un giaccone di cuoio sollecitamente disteso per terra dall'autista. In cucina ardeva una lampada. I due giardinieri consumavano la loro cena, mentre Madame Roque, in vestaglia bianca, sedeva tra le colonne della veranda e fantasticava fissando la splendida luna. Verso le dieci di sera, quando nessun suono provenne più dal villaggio di Konciovka, situato nei pressi del Sofkos, quell'idillico paesaggio cominciò a deccheggiare delle dolci ed incantevoli note d'un flauto. È difficile spiegare quanto queste note si intonassero ai boschetti e alle colonne dell'ex palazzo Seremetev. La voce della fragile Elisa, della donna di picche, si fondeva con quella appassionata di Polina e si innalzava verso la luna come un fantasma del vecchio regime, lontano ormai, eppure infinitamente caro ed incantevole. Si spengono, si spengono. Il flauto zufolava, vibrando e sospirando. I boschetti tacquero e anche dunia, pericolosa come una rusalca silvana, si mise ad ascoltare, accostando la guancia a quella ruvida, rossiccia e virile dell'autista. «Soffia bene quel figlio d'un cane», disse l'autista, cingendo la vita di dunia con il braccio robusto. A suonare il flauto era lo stesso direttore del Sofkos, Aleksandr Semyanovich, e bisogna riconoscere che lo faceva magnificamente. Per quanto possa sembrare strano, c'era stato un tempo in cui proprio il flauto era la specialità di Aleksandr Semyanovich. Fino al 1918 aveva fatto parte della rinomata orchestra del maestro Petokov, che ogni sera diffondeva i suoi melodiosi suoni nel foyer del cinematografo Sogni magici, nella città di Ekaterinoslav. Ma il grande anno 1917 aveva stroncato la carriera di molti, e anche Aleksandr Semyanovich era stato costretto ad intraprendere altre vie. Abbandonato il cinematografo Sogni magici e la polverosa seta del foyer, si era gettato nel mare tempestoso della guerra e della rivoluzione, impugnando un amicidiale Mauser al posto del flauto. Era stato a lungo in balia dei Marosi, sballottato di volta in volta a Mosca, in Crimea, nel Turkestan e persino a Vladivostok. Era stata necessaria la rivoluzione perché Aleksandr Semyanovich facesse vedere quel che valeva. Alla fine fu chiaro che il foyer dei Sogni magici non era adatto ad un simile grand'uomo. Senza diffondersi in troppi particolari, basti dire che alla fine del 1927 e al principio del 1928, egli si trovava ancora nel Turkestan, dove era redattore di un giornale a grande tiratura, nonché membro locale della Commissione Economica Centrale. Fu in quest'ultimo ruolo che riuscì a farsi un nome per i suoi sballorditivi risultati nell'irrigazione di quelle regioni. Nel 1928, Rock era giunto a Mosca e aveva ottenuto un più che meritato riposo. La Commissione Centrale dell'Organizzazione, la cui tessera quel provinciale all'antica teneva con tanto orgoglio nella tasca, aveva altamente apprezzato il suo lavoro, destinandolo adesso ad un incarico tranquillo e prestigioso. E così, ahimè, il fervido cervello di Rock ebbe la disgraziata occasione di incontrarsi con la scoperta del professor Persikov. Fu in una stanza dell'albergo La Parigi Rossa sulla Tverskaya che Aleksandr Semianovic ebbe l'idea di servirsi del raggio di Persikov per far rinascere in un mese i polli di tutta la Repubblica. Rock era stato poi ascoltato dalla Commissione per la Zootecnia, che aveva accolto la sua proposta, e quindi si era presentato dallo strampalato studioso munito di quel formidabile documento. Il concerto che risuonava sulle acque cristalline, sui boschi e sul parco, era ormai prossimo al termine, quando avvenne qualcosa che lo interruppe prima del tempo. I cani del vicino villaggio, che da talora avrebbero dovuto dormire, iniziarono invece ad abbagliare furiosamente con un unico tormentoso e intollerabile ululato. A questo ululato, che si diffuse rapidamente per i campi, rispose negli stagni il gracchiante concerto di milioni di voci di rane. Questo boato improvviso fu così spaventoso che per un istante la misteriosa notte incantata ne parve offuscata. Aleksandr Semianovic posò il flauto e uscì sulla veranda. «Mania, li senti quei maledetti cani? Che pensi, perché si saranno indemoniati in questo modo?» «Come faccio a saperlo?» rispose Mania, che stava ancora guardando la luna. «Vieni, Manecchka, andiamo a dare un'occhiata alle uova», propose Aleksandr Semianovic. «Dio mio, Aleksandr Semianovic, tu sei diventato completamente matto con le tue uova e le tue galline, e riposati un po'!» «No, no, Manecchka, voglio andare a vedere». Nella serra, vividamente illuminata dal globo bianco, arrivò anche Dunia, con il viso in fiamme e gli occhi che le luccicavano. Aleksandr Semianovic sollevò con cautela gli spioncini di controllo e tutti guardarono all'interno degli apparecchi. sulla bianca superficie d'asbesto erano disposte file regolari di grosse uova, chiazzate di macchie rosso chiaro. Gli apparecchi non emettevano nessun rumore. In alto si bilava invece debolmente la sfera luminosa da 15.000 candele. «Eh, sì, avrò dei bei pulcini», disse con entusiasmo Aleksandr Semianovic, che guardava ora di fianco nei fori di controllo, ora dall'alto nei bocchettoni di areazione. Vedrete che bei pulcini!» «Ma lo sa, Aleksandr Semianovic», disse Dunia sorridendo, «che i contadini del villaggio affermano che lei è l'anticristo. Dicono che queste sono uova del diavolo e che è peccato farle aprire con la macchina. La vogliono ammazzare, sa?». Aleksandr Semianovic sussultò e si girò verso la moglie. Il suo viso era diventato giallo. «Hai sentito quel che dicono? Ecco il nostro popolo. Che cosa si può fare con gente del genere? Eh, manecca, bisogna convocare un'assemblea. Domani farò venire degli operai del distretto per un discorso. C'è da lavorare, e tanto, in questa tana di orsi». «È il buio dell'ignoranza», sentenziò il custode, seduto sul suo cappotto accanto all'ingresso della serra. Il giorno seguente fu segnato da avvenimenti stranissimi e inspiegabili. La mattina, al sorgere del sole, i boschetti che di solito ne salutavano il primo raggio con il poderoso e frenetico cinguettio degli uccelli, l'accolsero invece con un completo silenzio. La cosa fu notata da tutti. Era come la calma che precede la tempesta, ma non c'era nessuna tempesta in arrivo. I discorsi dei sovcosiani presero una sfumatura strana ed equivoca per Aleksandr Semianovic, soprattutto perché il più noto mestatore sputa sentenze del villaggio, soprannominato Gozzo di Caprone, cominciò a dire che tutti gli uccelli si erano riuniti in stormi e, all'alba, avevano abbandonato Seremetevo diretti a nord, il che ovviamente era semplicemente assurdo. Aleksandr Semianovic era comunque molto inquieto e trascorse tutto il giorno nel tentativo di telefonare alla vicina città di Graevka. Infine gli disposero promettendo l'invio di due oratori che avrebbero parlato sui seguenti temi, la situazione internazionale e l'attività dell'associazione Amici dei Pulli. Anche la sera non passò senza sorprese. Se la mattina erano stati boschetti ad ammutolire, dimostrando così con chiarezza quanto spiacevole e sinistra la quiete possa essere tra gli alberi, se a mezzogiorno erano volati chissà dove i passeri del cortile sovcosiano, la sera divenne innaturalmente silenzioso anche il vicino stagno. Un fenomeno davvero sorprendente, dato che nel raggio di 40 verste era ben conosciuto il gracidare delle rane di questo stagno, che adesso sembravano tutte morte. Dallo stagno non giungeva un solo suono e persino i canneti restavano silenziosi. Aleksandr Semianovic, bisogna ammetterlo, era sconcertato. La gente cominciò a commentare questi strani eventi e li commentava nella maniera più spiacevole, cioè alle spalle di Aleksandr Semianovic. «È davvero strano», disse Aleksandr Semianovic alla moglie durante il pranzo. «Non riesco proprio a capire per quale ragione gli uccelli se ne sono volati via». «E come faccio a saperlo?» rispose Mania. «Forse è colpa del tuo raggio». «Sei la solita sciocca», rispose Aleksandr Semianovic gettando via il cucchiaio. «Sei proprio come i contadini, che cosa c'entra il raggio?» «E lasciami in pace allora, cosa vuoi che ne sappia?» La sera ci fu una terza sorpresa. I cani del villaggio di Konciovka ricominciarono ad ululare, e in che modo? I campi rischiarati dalla luna risuonavano del loro lamento incessante, dei loro latrati rabbiosi e angosciati. Aleksandr Semianovic fu però ricompensato da un'altra sorpresa, questa volta piacevole, proveniente dalla serra. Negli apparecchi un picchiettio continuo proveniva dall'interno delle uova. Toc, toc, toc. Si sentiva in un uovo, poi in un altro, poi in un altro ancora. Il picchiettio delle uova aveva un suono trionfale per Aleksandr Semianovic, che dimenticò subito gli estrani eventi dei boschi e degli stagni. Tutti si precipitarono nella serra, Mania, Dunia, la guardia, il custode, che lasciò il fucile accanto alla porta. E allora che ne dite? Domandava a tutti l'esultante Aleksandr Semianovic. Tutti accostarono con curiosità all'orecchio agli sportellini del primo apparecchio. Sono loro i pulcini, bussano con i loro beccucci, proseguì il raggiante Aleksandr Semianovic. E voi dicevate che non ce l'avrei fatta. Eh no, miei cari, avete visto? E per la gioia diede una pacca sulle spalle del custode. Usciranno così belli che resterete a bocca aperta. E ora attenti, mi raccomando, aggiunse con tono severo. E appena cominceranno ad uscire dai gusci, chiamatemi subito. Va bene, risposero in coro Dunia, la guardia e il custode. Toc, 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 faceva ora un uovo, ora un altro nel primo apparecchio. In effetti, lo spettacolo della nuova vita che stava nascendo all'interno di quei gusci sottili e lucenti era così interessante che il gruppetto sedette ancora a lungo sulle casse vuote e rovesciate ad osservare come maturavano quelle uova purpure e illuminate dal raggio misterioso. Andarono a dormire piuttosto tardi, quando la notte verdognola era ormai scesa sul soft cos e sui dintorni. Era una notte misteriosa, e anche, si può dire, terribile, forse perché l'insolito silenzio era di tanto in tanto interrotto dall'abbaiare inspiegabile, sordo e angoscioso dei cani del vicino villaggio. E non si riusciva a capire perché fossero tanto indemoniate quelle maledette bestie. La mattina successiva riservò una sgradevole sorpresa a Aleksandr Semienovic. Il custode, quanto mai confuso, si metteva le mani sul cuore, giurava e spergirava di non aver dormito. Eppure non si era accorto di nulla. «È un mistero», assicurava il custode. «Io non ne ho colpa, compagno Rock». «Grazie, grazie di tutto cuore», lo apostrofò Aleksandr Semienovic. «Ma cosa crede, compagno, di essere stato messo lì a dormire, eh? No, per sorvegliare. E adesso viene qui a dirmi che non sa dove diavolo siano finiti quei pulcini. È chiaro che sono usciti dai gusci, ma lei ha lasciato la porta aperta e se n'è andata a dormire. No? E loro sono scappati. Ma io le rivolgo indietro, ha capito?» «Io non me ne sono andato, conosco il mio dovere», disse offeso il custode. «Lei mi rimproverà ingiustamente, compagno Rock». «E allora dove sono finiti?» «Non lo so, non è affar mio. Il mio compito è sorvegliare gli apparecchi perché nessuno li porti via, e io l'ho fatto. Eccoli qui gli apparecchi. Ma la legge non mi obbliga a riprendere i suoi pulcini. Chissà che razza di pulcini saranno usciti, magari neanche in bicicletta li si acchiappa». Aleksandr Semianovic si calmò un poco, borbottò qualcosa e divenne pensieroso. In effetti la cosa era strana. Nell'apparecchio che era stato caricato per primo, due uova, poste alla base stessa del raggio, apparivano aperte. Una era persino scivolata a lato e il guscio giaceva sulla superficie di asbesto all'interno del raggio. «Lo sai il diavolo», borbottò Aleksandr Semianovic. «Le finestre sono chiuse, che si hanno volati via attraverso il tetto». Sollevò la testa e si mise ad osservare alcuni fori abbastanza larghi che si aprivano nel tetto di vetro della serra. «Ma che cosa dice Aleksandr Semianovic?», si stupidunia. «I pulcini non sanno volare, devono essere qui in giro. Pio, pio, pio!» E si mise a frogare negli angoli della serra ingombri di grandi vasi, tavole e ciarpame di ogni tipo, ma non le rispose nessun pulcino. Tutti gli impiegati del Sofcos cercarono per due ore nel cortile i pulcini scomparsi, ma senza alcun successo. La giornata fu molto agitata. La sorveglianza degli apparecchi fu rafforzata da un'altra guardia che ricevette l'ordine categorico di controllare ogni quarto d'ora attraverso gli spioncini e di avvisare immediatamente Aleksandr Semianovic in caso di necessità. Il custode sedette imbronciato accanto alla porta con il fucile tra le ginocchia. Aleksandr Semianovic si diede molto da fare e riuscì a pranzare solo verso le due del pomeriggio. Dopo il pranzo dormì un'oretta all'ombra sull'ex ottomana dei Seremetev, beve un po' di kvas prodotto dal Sofcos e quindi passò nella serra per assicurarsi che tutto fosse a posto. Il vecchio custode era sdraiato bocconi su una stuoia e strizzando gli occhi guardava nello spioncino di controllo del primo apparecchio. L'altra guardia vigilava senza mai allontanarsi dalla porta. Ma c'erano delle novità. Le uova del terzo apparecchio, quello caricato per ultimo, cominciarono a schioccare e a picchiettare come se qualcuno si inghiozzasse all'interno. «Eh, maturano», disse Aleksandr Semianovic. «Ecco, stanno maturando, lo vedo. Hai visto?» Si rivolse alla guardia. «Sì, è una cosa eccezionale», rispose quello scuotendo la testa con espressione ambigua. Aleksandr Semianovic sedette per un po' accanto agli apparecchi, ma finché rimase lì nessun uovo si schiuse. Dalla fine si alzò e, sgranchendosi le gambe, dichiarò che non avrebbe lasciato il Sofcos, ma sarebbe andato a fare il bagno nello stagno e ordinò che lo chiamassero immediatamente nel caso succedesse qualcosa. Corse nel palazzo, salì nella sua camera dove, tra i due letti a molla, con le lenzuola sgualcite, erano ammucchiati per terra delle mele verdi e del miglio preparato per le future nidiate. Aleksandr Semianovic si armò di un asciugamano di spugna e, dopo averci pensato un po', prese con sé anche il flauto per suonarlo in pace accanto all'acqua placida dello stagno. Quindi uscì baldanzoso dal palazzo, attraversò il cortile del Sofcos e si diresse allo stagno lungo il nuovo vialetto. Rock camminava spedito, tenendo il flauto sotto l'ascella e agitando l'asciugamano. L'afa gravava sui salici, il corpo languiva e bramava l'acqua. Sulla destra del viottolo cresceva una macchia di lappole e Rock, passando, ci sputò dentro. Nel folto della vegetazione si udì un fruscio, come se qualcuno stesse trascinando un tronco. Con una fogace, ma sgradevole, stretta al cuore, Aleksandr Semienovic voltò la testa verso la macchia e guardò sorpreso in quella direzione. Già da due giorni lo stagno non emetteva alcun suono. Il fruscio era cessato e al di sopra delle lappole luccicava invitante la liscia superficie dello stagno e la tettoia grigia della cabina. Alcune livellule sfrecciarono davanti ad Aleksandr Semienovic, che stava già dirigendosi verso il ponticello di legno. Quando il fruscio risuonò nuovamente nella macchia, accompagnato da un suono roco e breve, simile al sibilo del vapore di una locomotiva. Aleksandr Semienovic si mise in guardia e fissò attentamente la fitta macchia di arbusti. Aleksandr Semienovic risuonò in quel momento la voce della moglie di Rock e la sua blusa bianca balenò, scomparve e tornò a balenare fra i cespugli. Aspettami, vengo anch'io a fare il bagno. La donna si affrettò verso lo stagno, ma il marito non le rispose, tutto teso a scrutare la macchia di lappole in mezzo alle quali un tronco grigio oliva cominciò a sollevarsi, crescendo sotto gli occhi del dirigente del Sofcos. Delle chiazze umide e giallastre, così parve ad Aleksandr Semienovic, costellavano il tronco, che crebbe, contorcendosi ed ondeggiando, e si allungò sin a superare un basso salice nodoso. Quindi l'estremità superiore del tronco sembrò spezzarsi, si curvò un po', e ad Aleksandr Semienovic ricordò per l'altezza un palo della luce che aveva vista Mosca, solo che questa cosa era almeno tre volte più grossa, e molto più bella per via del tatuaggio a scaglie. Senza ancora aver capito, ma raggelato dal terrore, Aleksandr Semienovic fissò la cima della spaventosa colonna, e per alcuni secondi il suo cuore cessò di battere. Gli parve che il gelo fosse improvvisamente sceso su quel giorno d'agosto, e gli occhi si offuscarono, come se guardassero il sole attraverso il tessuto dei pantaloni estivi. All'estremità superiore del tronco era apparsa una testa, schiacciata, appuntita e ornata da una macchia gialla e tonda che spiccava sul fondo color oliva. Senza ciglia, spalancati, gelidi e sottili, degli occhi guardavano da quella testa, ed emanavano una malvagità inconcepibile. La testa si mosse come se volesse beccare l'aria, e la colonna tornò ad appiattirsi tra i cespugli. Solo gli occhi rimasero visibili, senza mai chiudersi, e fissavano Aleksandr Semienovic. Coperto di sudore vischioso, l'uomo pronunciò quattro parole del tutto inverosimili, e di certo dettate dal terrore che lo stava facendo impazzire. Eppure erano così belli quegli occhi tra le foglie. Che razza di scherzi! Poi gli venne in mente che i fachiri, sì, sì, l'India, un'illustrazione, un cesto di vimini, incantano i serpenti. La testa si levò di nuovo, e anche il tronco si mosse. Aleksandr Semienovic si portò il flauto alle labbra, diede un rocco sospiro e cominciò a suonare, sentendosi mancare il respiro ad ogni istante, il waltzer dell'Evgeni Onegin. Ma nel fogliame gli occhi si accesero immediatamente di odio implacabile verso quest'opera. Ma cosa fai? Sei impazzita a suonare con questo caldo? risuonò la voce allegra di mania, e con la coda dell'occhio Aleksandr Semienovic colse dietro di sé una macchia bianca. Un attimo dopo, l'aria fu trapassata da un urlo agghiacciante che si levò al cielo e raggelò l'intero soft course. Il waltzer sobbalzava come se avesse una gamba rotta. La testa dal fogliame balzò in avanti, gli occhi abbandonarono Aleksandr Semienovic, concedendo alla sua anima il tempo di pentirsi. Un serpente largo come un uomo e lungo all'incirca dieci metri scattò come una molla fuori dai cespugli. Una nuvola di polvere si alzò dal vialetto e il waltzer cessò. Il serpente passò accanto al direttore del soft course, dirigendosi proprio là dove stava la blusa bianca. Rock vide tutto con assoluta chiarezza. Mania divenne lividamente gialla e i suoi lunghi capelli le si drizzarono sulla testa come fili di ferro. Davanti agli occhi di Rock, il serpente aprì per un istante le fauci, dalle quali spuntò qualcosa di simile ad una forchetta ed afferrò con i denti Mania, che era già stramazzata nella polvere, e la sollevò di un metro dal suolo. Mania ripeté il suo lacerante urlo di morte. Il serpente si contorse in una spirale lunga a 10 metri, sollevando con la coda un turbine di polvere, e cominciò a stritolare Mania. La donna non emise più nessun suono, ma Rock poté sentire lo scricchiolio delle sue ossa. La testa di Mania ondeggiava in alto, teneramente appoggiata alla guancia del serpente. Il sangue sgorgava dalla bocca e a zampilli dalle unghie della mano che ciondolava spezzata. Quindi il serpente aprì la bocca, spalancando completamente le mascelle, e cominciò ad introdurre la testa di Mania nella sua, come un guanto ricopre un dito. Il serpente emanava in tutte le direzioni un mortifero alito ardente che sfiorò il viso di Rock, il quale per poco non fu rovesciato sull'acre polvere dalla coda del mostruoso animale. Fu allora che Rock incanutì. Prima la metà sinistra, poi quella destra della sua testa, nera come uno stivale, si ricoprirono d'argento. In preda ad una nausea mortale, riuscì infine ad allontanarsi dal viottolo, e senza più vedere nulla si mise a correre, facendo risuonare i dintorni di un urlo selvaggio. La zuppa vivente. Shukin, agente della direzione politica di Stato nella località di Dugino, un uomo molto coraggioso, disse pensieroso al suo compagno, il rossiccio Polaitis. D'accordo, andiamo a vedere, prenderemo la motocicletta. Tacque un istante, e poi aggiunse, rivolgendosi all'uomo seduto su una panca, posi quel flauto. Ma l'uomo canuto e tremante seduto su una panca di quella sede provinciale della GPU non posò il flauto, e cominciò invece a piangere e gemere. Gli agenti compresero allora che bisognava togliergli il flauto a forza, perché le sue dita erano come pietrificate, e Shukin, che si distingueva per la sua forza straordinaria, quasi da circo, cominciò a staccare un dito dopo l'altro. Infine, riuscirono a poggiare il flauto sul tavolo. Erano le prime ore del giorno luminoso che seguì quello della morte di Mania. «Lei verrà con noi», disse Shukin a Aleksandra Semianovic, «e ci mostrerà che cosa è successo e dove». Marrock si scostò da lui, riparandosi il viso con le mani, come per non vedere uno spaventoso fantasma. «È necessario che ci indichi», aggiunse Severo Polaitis. «No, Aleksandra Semianovic. Non vuole più tornare al Sovcos?» Anziché rispondere, Rock nascose nuovamente il viso dietro le mani e il terrore tornò a deformare il suo viso. «Va bene», disse Shukin. «Lei non è proprio in condizione. Sta per partire un rapido per Mosca. Lo prenda». Poi, mentre un altro agente faceva bere un po' d'acqua a Aleksandra Semianovic, i cui denti tremanti sbattevano contro la tazza azzurra e mal ridotta, Shukin e Polaitis tennero consiglio. Polaitis riteneva che non fosse successo proprio nulla e considerava Rock semplicemente un malato mentale in preda ad allucinazioni. Shukin era invece propenso a credere che un boa constrictor fosse scappato dal circo in quei giorni accampato in una vicina città. Nell'udire i loro dubbi, Rock si alzò e tornando un po' in sé, levò le braccia come un profeta biblico e disse «Ascoltatemi, ascoltatemi, perché non mi volete credere? Mia moglie era viva e dov'è adesso?». Shukin si fece serio e silenzioso e subito inviò a Graevka un telegramma. Poi ordinò al terzo agente di non staccarsi da Rock e di accompagnarlo a Mosca. Shukin e Polaitis si prepararono invece alla spedizione. Avevano una sola rivoltella elettrica che costituiva però un'ottima difesa. Era un modello a 50 colpi del 27, orgoglio della tecnica francese ed eccellente nel combattimento ravvicinato. La sua portata era di soli 100 passi, ma quando sparava non dava scampo a chiunque si trovasse nei due metri del suo raggio di tiro. Fallire il colpo con quell'arma era molto difficile. Shukin prese con sé il magnifico giocattolo elettrico, mentre Polaitis si armò di un comune mitra a 25 colpi. Nella frescura rugiadosa del mattino, i due, presi i caricatori e saliti sulla stessa motocicletta, imboccarono la strada asfaltata che portava al South Coast. In un quarto d'ora, la motocicletta percorse rumorosamente le venti verste che separavano Dugino dal South Coast. Rock aveva impiegato tutta la notte, ma nascondendosi più volte nell'erba lungo la strada in preda ad attacchi di folle terrore. Il sole aveva già cominciato a picchiare quando sulla collina che sovrasta il fiume Ton apparve il palazzo di zucchero con le colonne immerso nel verde. Un silenzio di morte gravava tutto intorno. All'ingresso del South Coast, gli agenti superarono un contadino che, senza affrettarsi, avanzava sul suo carro carico di grandi sacchi e in un attimo lo lasciarono indietro. La motocicletta attraversò il ponte e Polaitis suonò il clacson per richiamare l'attenzione degli abitanti. Ma nessuno rispose, ad eccezione dei cani infuriati del vicino villaggio di Konciovka. La motocicletta rallentò e si accostò all'ingresso custodito da due leoni, ormai divenuti verdi per l'umidità. Tutti impolverati, ma con leghette gialle che splendevano al sole, i due agenti scesero dalla motocicletta, la assicurarono con una catena alla cancellata ed entrarono nel cortile. Li stupì l'assoluto silenzio di quel luogo. «Ehi, c'è qualcuno?» gridò forte Shukin. Ma nessuno rispose alla sua voce di basso. Sempre più sorpresi, i due agenti fecero il giro del cortile. Polaitis si fece teso. Shukin cominciò a guardarsi intorno con circospezione e a corrugare sempre più le chiare sopracciglia. Attraverso la finestra aperta guardarono l'interno della cucina. Non c'era nessuno, ma il pavimento era ingombro di bianchi cocci di stoviglie. «Sai, credo che qui da loro sia davvero successo qualcosa di grave, una catastrofe!» disse Polaitis. «Ehi, c'è qualcuno! Ehi là!» gridò Shukin. Ma alle sue parole rispose solo l'eco sotto la volta della cucina. «Ma che diavolo!» brontolò Shukin. «Non può mica averli mangiati tutti! Forse sono fuggiti! Entriamo in casa!» Sotto le colonne della veranda il portone del palazzo era spalancato. Dentro tutto appariva deserto. Gli agenti cercarono persino nel mezzanino e aprirono tutte le porte, ma senza ottenere alcun risultato, sinché riuscirono nel cortile, attraversando l'atrio silenzioso. «Facciamo il giro della casa e diamo un'occhiata alla serra», decise Shukin. «Frugheremo dappertutto e poi telefoneremo». Lungo il viottolo di mattoni, gli agenti oltrepassarono delle aiuole, arrivarono al cortile posteriore, lo attraversarono e scorsero le finestre luccicanti della serra. «Aspetta!» sussurrò Shukin ed estrasse dalla cintura la rivoltella elettrica. Anche Politis si mise in guardia ed imbracciò il mitra. Un suono strano e intenso proveniva dalla serra e da un po' più in là. Qualcosa di simile al vapore di una locomotiva. «Ah, ecco, stai attento!» murmurò Shukin. Cercando di non far rumore con i tacchi, i due agenti si accostarono alle vetrate e guardarono nella serra. Subito Politis fece un balzo all'indietro e il suo viso divenne pallido. Shukin rimase a bocca aperta impietrito, con la rivoltella stretta in mano. L'intera serra aveva l'aspetto di una zuppa vivente. Intrecciandosi e sciogliendosi, similando e allungandosi, ondeggiando e scuotendo le teste, sul pavimento della serra strisciavano grovigli di enormi serpenti. Innumerevoli gusci rotti giacevano per terra e scricchiolavano sotto il peso dei rettili. In alto, splendeva una sfera di enorme luminosità che inondava l'interno della serra di una luce strana da cinematografo. Sul pavimento erano poggiate tre enormi casse scure, simili a macchine fotografiche. Due di queste casse erano spente, mentre nella terza riluceva una piccola macchia di un rosso cupo. Serpenti di tutte le dimensioni strisciavano sui cavi, salivano lungo l'intelaiatura dei vetri, si infilavano nelle aperture del tetto. Persino dal globo luminoso pendeva un serpente nero a chiazze, la cui testa ondeggiava come un pendolo. Confusi fra i sibili, si sentivano anche tintinnare dei sonagli, e dall'intera serra emanava uno strano odore putrido, come di palude. Gli agenti videro confusamente anche dei mucchi di uova bianche accatastate negli angoli polverosi della terra, uno strano e gigantesco uccello dalle lunghe zampe, immobile presso gli apparecchi. E vicino alla porta, il cadavere di un uomo vestito di grigio, che ancora stringeva un fucile. Indietro urlò Shukin e cominciò a retrocedere, allontanando con la mano sinistra Politis e puntando con la destra alla rivoltella. Riuscì a sparare nella serra nove cariche sibilanti, simili a fulmini verdastri. In risposta agli spari, il rumore nella serra decuplicò e i rettili si mossero convulsamente, sporgendo le teste piatte da tutte le aperture. Il crepitio dei mitra cominciò a risuonare per tutto il soft toss e a giocare con gli echi sulle pareti. «Ta ta 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 ta!» sparava Politis indietreggiando, quando alle sue spalle si udì uno strano fruscio di zampe. Politis lanciò un urlo e cadde a terra. Un essere bruno verde, dalle zampe arcuate, un enorme muso aguzzo, la coda accrestata, nel complesso molto simile ad una lucertola di spaventose dimensioni, era strisciato fuori da una legnaia e aveva ferocemente azzannato una gamba di Politis, gettandola a terra. «Aiuto!» gridò la gente, e subito il suo braccio sinistro scomparve nelle fauci e scricchiolò, mentre tentava inutilmente di sollevare il destro armato di rivoltella. Shukin si voltò e sparò, ma fallì il bersaglio per timore di uccidere il compagno. Una seconda volta sparò invece in direzione della serra, dove, tra i musi di altri serpenti più piccoli, ne era spuntato uno enorme, olivastro, il cui corpo si stava scagliando verso di lui. Con quello sparo riuscì ad uccidere il serpente e subito corse da Politis, che mezzo morto stava scomparendo nelle fauci del coccodrillo, e cercò un punto in cui sparare per uccidere lo spaventoso rettile senza colpire il compagno. Alla fine ci riuscì, esplodendo dalla rivoltella elettrica due scariche che illuminarono tutti intorno con una luce verdastra. Il coccodrillo sobalzò, si dimenò, e infine irrigidendosi lasciò Politis. Il sangue colava dalla bocca e dalla manica della gente, che appoggiandosi sul braccio destro cercava di trascinare la gamba sinistra spezzata. Ma i suoi occhi si stavano spegnendo. «Shukin, scappa!» urlò, singhiozzando al compagno. Shukin sparò ancora una volta in direzione della serra, infrangendone i vetri. Ma un'enorme molla, olivastra e flessuosa, sbocò fuori da una cantina e guizzò attraverso il cortile, occupandolo tutto con il suo corpo in mane e in un istante avvinghiò le gambe di Shukin. La gente crollò a terra, lasciando cadere la lucente rivoltella e lanciando un grido terribile. Il grido si spense subito e Shukin scomparve interamente tra le spire, ad eccezione della testa. Ma poco dopo, il serpente inghiottì anche la testa dopo averla prima sbucciata, staccandone lo scalpo e poi frantumata. Nel Sovkos non si udì più alcuno sparo. Un sordo sibilo sovrastò ogni altro rumore. Solo in lontananza dal villaggio di Konciovka, a questo sibilo rispose un urlo. Non si sa, però, se duomo. o di animale. La catastrofe La redazione notturna dell'Eisvestia era illuminata a giorno. Sul tavolo di piombo il grasso redattore capo stava componendo la seconda colonna con i telegrammi provenienti da tutta l'Unione delle Repubbliche, quando una bozza attirò la sua attenzione. Egli la fissò attraverso il pancne e scoppiò a ridere, chiamando attorno a sé i correttori e gli addetti all'impaginazione e mostrandola loro. Sulla stretta striscia di carta ancora umida era scritto Graevka, provincia di Smolensk. Ieri è apparsa nel distretto una gallina grande quanto un cavallo e che tira calci come un cavallo. Al posto della coda a piume da signora borghese. I tipografi sghignazzarono fragorosamente. «Ei miei tempi», prese a dire ridacchiando il grasso redattore capo, «quando lavorava ancora con Vanya Sittin alla parola russa, si beveva sino a vedere gli elefanti. Dico davvero, adesso invece si vedono gli struzzi». I tipografi scoppiarono a ridere. «Certo, deve trattarsi di uno struzzo», commentò l'impaginatore. «Che facciamo, Ivan Bonifatevich? Lo stampiamo!» «Ma sei impazzito», rispose il redattore capo. «Mi stupisco che il segretario abbia fatto passare questo telegramma da ubriaconi». «Si devono essere sbronzati, questo è certo», concordarono i tipografi e l'impaginatore gettò via la comunicazione riguardante lo struzzo. E così, le isvestie uscirono il giorno dopo con la consueta quantità di materiale interessante, ma senza alcun accenno allo struzzo di Graevka. Il libero docente Ivanov, attento lettore delle isvestie, ripiegò il giornale, sbadigliò e disse «Nulla di interessante», quindi indossò un camice bianco. Poco dopo, nel suo laboratorio si accesero delle luci e le rane iniziarono a gracidare. Nel laboratorio del professor Persikov c'era invece una grande agitazione. Pankrat, spaventatissimo, stava sull'attenti accanto alla porta. «Ho capito, sì, certo, signore», diceva. Persikov gli consegnò un pacchetto sigillato con della ceralacca dicendo «Vai direttamente alla sezione zootecnia e dia al direttore, tacia, che è un maiale. Diggli che il professor Persikov ha detto proprio così e dagli il pacchetto». «Per l'affare», pensò il pallido Pankrat guardando il pacchetto. Persikov era infuriato. «Cose da pazzi», sbraitava. Camminando rumorosamente per il laboratorio e tormentandosi le mani inguantate. «È un'offesa inaudita a me e alla zoologia. Hanno importato mucchi di queste maledette uova di gallina e io aspetto da due mesi quelle che mi servono, neppure dovessero arrivare dall'America. La solita disorganizzazione, il solito scandalo». E si mise a contare con le dita. «Il tempo di trovarle, diciamo dieci giorni al massimo, d'accordo, quindici, anche venti. E due giorni di aereo, poi un giorno da Londra a Berlino, da Berlino a qui sei ore, invece niente, che scandalo». Persikov balzò rabbioso verso il telefono e cominciò a chiamare chissà chi. Nel suo laboratorio tutto era pronto per certi misteriosi e pericolosissimi esperimenti. Erano state preparate strisce di carta per chiudere ermeticamente le porte, maschere da palombaro con i tubi per l'aria e alcune bombole lucenti come mercurio con le etichette «Materiale chimico non toccare» e il disegno di un teschio con le osse incrociate. Occorsero più di tre ore perché il professore si calmasse e cominciasse la sua attività. Poi però rimase a lavorare sino alle undici di sera, senza sapere nulla di quel che avveniva al di là delle pareti color crema dell'istituto. Né dell'assurda notizia, fulmineamente diffusa si per Mosca, riguardo a certi serpenti, né dello strano telegramma pubblicato da un giornale della sera. Ivanov, infatti, era andato al teatro dell'arte alla rappresentazione del Fiodor Johanovic e non c'era quindi nessuno che potesse informare il professore delle novità. Verso mezzanotte Persikov tornò a casa sulla Precistenka e dopo aver dato un'occhiata ad un articolo inglese sulla rivista Messaggero Zoologico appena arrivata gli da Londra, se ne andò a letto. E dormì, come dormiva dopo la solita baldoria notturna, tutta la città di Mosca. Non si dormiva soltanto nell'enorme e grigio edificio delle Isvestia, sulla Tverskaya, le cui pareti tremavano per il rombo delle rotative. Una confusione indescrivibile regnava nello studio del redattore capo, che con gli occhi rossi e in preda ad un'irrefrenabile agitazione non sapeva che fare e mandava tutti al diavolo. Diffondendo intorno a sé un forte odore di vino, l'impaginatore lo seguiva passo passo dicendogli «Suvia, Ivan Vonifatevich, non è una gran disgrazia, domani faremo un supplemento straordinario, del resto non possiamo certo tirare fuori il giornale dalle macchine». I tipografi non erano tornati a casa, ma vagavano a branchi nei locali del giornale, riunendosi per leggere i telegrammi che continuarono ad arrivare per tutta la notte, ogni quarto d'ora, e sempre più assurdi e mostruosi. Nella cecante luce rossa che inondava la tipografia, si aggirava il cappello a punta di Alfred Bronski, mentre il grassone meccanico arrancava scricchiolando di qua e di là. Le porte dell'ingresso sbattevano e i cronisti entrarono e uscirono per tutta la notte. I dodici telefoni della tipografia squillavano senza sosta e quasi automaticamente il centralino rispondeva occupato alle misteriose chiamate. Le assonnate telefoniste non ebbero riposo. I tipografi circondavano il grassone meccanico e lui, il capitano di lungo corso, li istruiva «Bisogna inviare aerei con i gas asfissianti!» «Non c'è altro da fare», rispondevano i tipografi. «Ma come diavolo è potuto succedere?» Poi risuonò una tremenda bestemmia e la voce di qualcuno gridò «Bisognerebbe fucilarlo, questo Persikov!» «Ma che c'entra Persikov?» ribatte qualcuno del gruppo. «È quel figlio d'un cane, quello del Sovkos che andrebbe fucilato!» «Bisognava mettere delle guardie!» gridava qualcun altro. «Forse non erano neppure uova!» L'intero edificio tremava per il rombo delle rotative e sembrava ardere d'un incendio elettrico. Il sorgere del sole non estinse quest'incendio, anzi, lo rafforzò, anche se le luci elettriche vennero spente. Nel cortile asfaltato del giornale continuavano ad arrivare motociclette e automobili. Mosca si alzò, rivestendosi di pagine di giornali bianche come uccelli. I giornali frusciavano, passavano di mano in mano e alle undici nelle idicole non se ne trovava più neppure uno, benché lei Svestia avesse raggiunto proprio in quel mese una tiratura di un milione e mezzo di copie. Il professor Persikov uscì dalla sua casa sulla Precistenka e raggiunse in tram l'istituto. Qui l'accolse una sorpresa. Nell'atrio si trovavano tre casse di legno accuratamente rivestite da strisce metalliche e ricoperte di etichette in tedesco. Una sola scritta fatta col gesso era in russo. Attenzione, uova. Una gioia sfrenata si impadronì del professore. Finalmente, gridò. Pankrat, disfai immediatamente queste casse, ma con prudenza che non si rompano le uova. Portale nel mio laboratorio. Pankrat eseguì sollecitamente l'ordine, ma un quarto d'ora dopo, nel laboratorio ingombro di segatura e di ritagli di carta, risuonò la voce infuriata del professore. Mi vogliono prendere in giro, urlò il professore agitando i pugni e rigirando le uova tra le mani. Questo ptace è una bestia, ma non gli permetterò di ridere alle mie spalle. Che cos'è questa roba, Pankrat? Sono uova, signore, rispose tristemente Pankrat. Sì, ma di gallina, sono uova di gallina. Che se le porti il diavolo, che me ne faccio? Perché non le mandano a quel buono nulla del Sovcos? Persikov si diresse verso il telefono, ma non riuscì a chiamare. Vladimir Patic, Vladimir Patic, gridò nel corridoio dell'istituto la voce di Ivanov. Persikov lasciò la cornetta del telefono e Pankrat si fece da parte per lasciar passare il libero docente, che contrariamente ai suoi modi da gentiluomo irruppe nel laboratorio con il cappello ancora calcato sulla nuca e un foglio di giornale in mano. Ma lo sa che cos'è successo, professore? Urlò, agitando davanti al viso di Persikov il foglio con la scritta Supplemento straordinario, in mezzo al quale spiccavano i vividi colori di una fotografia. No, senta invece quel che hanno fatto qui, rispose Persikov furibondo, senza prestare attenzione alle grida di Ivanov. Hanno avuto la bella idea di fare gli spiritosi con delle uova di gallina. Questo ptace è un perfetto idiota. Guardi qui. Ivanov rimase di sasso, fissando spaurito prima le casse aperte e poi il foglio di giornale, con gli occhi quasi fuori dalle orbite. Ecco che cosa è successo, adesso capisco, balbettò ansimando. No, mi ascolti, Vladimir Ipatic, guardi qui, e aprì con dita tremanti il foglio di giornale indicando a Persikov l'immagine a colore in cui, simili ad uno spaventoso idrante da pompieri, un serpente olivastro chiazzato di giallo si contorceva nel verde sfocato della vegetazione. La fotografia era stata scattata dall'alto, da un aeroplano che si era abbassato per quanto possibile sul serpente. Che cos'è questo, secondo lei, Vladimir Ipatic? Persikov sollevò gli occhiali sulla fronte, poi li rimise a posto, fissò la fotografia e, molto sorpreso, rispose, che diavolo, questo sì è un'anaconda acquatico, un boa. Ivanov gettò via il cappello, sedette pesantemente su una sedia e disse, accompagnando ogni parola con un pugno sul tavolo, Vladimir Ipatic, questa anaconda si trova nella provincia di Smolensk, è una cosa mostruosa, quell'idiota ha fatto nascere serpenti anziché polli, capisce? Serpenti prolifici come le nostre rane. Che cosa? rispose Persikov e il viso gli si scurì. Lei scherza, Piotr Stepanovich, e come avrebbe fatto? Ivanov ammutò lì per un attimo, poi riacquistò il dono della parola e, indicando con un dito la cassa aperta in cui biancheggiavano tra i truccioli le testine bianche delle uova, rispose, ecco come. Che cosa? urlò Persikov, che cominciava a comprendere. Ivanov agitò con assoluta convinzione i pugni chiusi e gridò, proprio così, hanno spedito al Sofkos le nostre uova di serpenti e distruzzi e a noi quelle di gallina. Un errore! Dio mio! Dio mio! ripete Persikov, sedendosi sullo sgapello girevole. Il suo viso era divenuto verde. Pankrat era rimasto accanto alla porta, fuori di sé, ammutolito e pallido. Ivanov si alzò di scatto, afferrò il giornale, sottolineò un rigo con l'unghia affilata e gridò al professore. Oh, ma ci sarà da stare allegri adesso. Non riesco proprio ad immaginare quel che potrebbe accadere. Guardi, Vladimir Ipatich! E cominciò a leggere quasi urlando le prime parole del foglio umidiccio che gli capitarono sotto gli occhi. I serpenti si dirigono a branchi verso Moschaisk, deponendo un'incredibile quantità di uova. Reparti speciali dell'esercito e della GPU hanno liberato via Osma dal panico incendiando il bosco che si trova accanto alla città, arrestando così l'avanzata dei rettili. Mortalmente pallido, il viso cosparso di macchie multicolori e gli occhi folli, Persikov si alzò dallo sgapello e cominciò a gridare con voce affannosa. Un'anaconda? Un boa constrictor? Dio mio! Ne Ivanovne e Pankrat l'avevano mai visto in quelle condizioni. Il professore divenne in un attimo spaventosamente rosso, si strappò via la cravatta facendo saltare i bottoni della camicia e, barcollando, si slanciò chissà dove, con gli occhi vitrei e insensati. Il suo urlo rimbombò sotto le volte di pietra dell'istituto. «Un'anaconda! Un'anaconda!» tuonava l'eco. «Fermalo!» strillò Ivanov a Pankrat che per il terrore si era messo a saltare sul posto. «Dagli dell'acqua! Gli è venuto un colpo!» Battaglia e morte. Mosca era infiammata da una furiosa battaglia elettrica. Tutte le luci della città erano accese e, con l'eccezione dei bambini ignari, nessuno dei suoi quattro milioni di abitanti stava dormendo. Negli appartamenti, illuminati da lampade a cui erano state tolte le abajur, si beveva e si mangiava come capitava. Tutti gridavano e, ad ogni istante, visi sconvolti si affacciavano alle finestre dei vari piani, fissando ansiosamente il cielo solcato in ogni direzione dai riflettori. Di tanto in tanto avvampavano nel cielo i bianchi bagliori dei razzi che riversavano su Mosca coni di luce vivida ma fugace. L'aria risuonava incessantemente degli aeroplani in volo a bassa quota. Particolarmente terribile era la situazione tra le vie Tverskaya e Jamskaya. Alla stazione Aleksandrovski giungevano ogni dieci minuti dei treni composti alla meno peggio di carri merci, di vagoni passeggeri delle varie classi e persino di cisterne. Ne scendevano uomini quasi fuori di senno che subito si riversavano nella spaventosa calca della Tverskaya, irrompendo sugli autobus, arrampicandosi sui tetti dei tram, soffocandosi gli uni con gli altri, finendo schiacciati sotto le ruote. Alla stazione il frastuono era talvolta soverchiato dal crepitio inquietante degli spari. In questo modo i soldati cercavano di sedare il panico delle folle impazzite che dalla provincia di Smolensk cercavano rifugio a Mosca lungo la strada ferrata. Le locomotive fischiavano, i vetri andavano in frantumi. Tutte le vie erano ricoperte di manifesti buttati a terra e calpestati, identici a quelli che ancora erano affissi sui muri illuminati dai riflettori. Tutti ne conoscevano il contenuto e ormai nessuno li leggeva. I manifesti dichiaravano che Mosca era in stato d'assedio, minacciavano sanzioni contro chi si fosse abbandonato al panico e annunciavano che nuovi reparti dell'Armata Rossa, armati di gas, erano stati inviati nella provincia di Smolensk. Ma i manifesti non potevano restituire la calma alla città angosciata. Nelle case la gente fracassava stoviglie e vasi di fiori, correva a cercare rifugio negli angoli, faceva e disfaceva fagotti e valigie nella vana speranza di arrivare a piazza Kalanchevskaya e raggiungere le stazioni di Yaroslav e Nikolaev. Ma ahimè, tutte le stazioni per il nord e l'est erano circondate da un fitto cordone di fanteria. Enormi camion ondeggianti e cigolanti, carichi di grosse casse sopra le quali sedevano soldati dagli elmetti a gozzi e dalle baionette puntate in tutte le direzioni, evacuavano le riserve auree dai sotterranei del Ministero delle Finanze insieme a grandi casse con la scritta «Attenzione, fragile, galleria, tre Tjakovski». Le macchine rombavano e correvano per tutta Mosca. In lontananza, tremolava nel cielo il bagliore d'un incendio. Ininterrotti colpi di cannone facevano vibrare la fitta oscurità notturna. Erano le prime ore del mattino e nessuna luce era stata spenta nell'insonne città quando sulla Tverskaya iniziò a passare, costringendo tutti quelli che incontrava sul suo percorso a pigiarsi nei portoni e contro i negozi, sin a rompere le vetrine, la lunga serpe di un'armata a cavallo. Gli zoccoli scalpitavano sul selciato. I cappucci rossi pendevano sulle schiene grigie dei soldati, le punte delle lance trafiggevano il cielo. La folla esagitata e urlante parve rianimarsi alla vista delle schiere ordinate che fendevano la calca umana impazzita. Sui marciapiedi si cominciò a gridare di gioia, di speranza. «Evviva l'armata a cavallo!» gridavano frenetiche voci femminili. «Evviva!» facevano ecco gli uomini. «Ci schiacciano, ci schiacciano, attenti!» urlò qualcuno. «Aiuto!» si invocò sui marciapiedi. I moscoviti lanciavano ai soldati scatole di sigarette, monete d'argento, persino orologi. Alcune donne, rischiando di farsi calpestare, si misero a correre a fianco dei soldati, ad afferrare le staffe, a baciarle. Di tanto in tanto nell'incessante scalpitio degli zoccoli, crepitavano gli ordini dei graduati. «Accorciare le redini!» Qua e là echeggiava un canto allegro e baldanzoso, e dalle groppe dei cavalli i soldati, con i loro berretti rossi sulle ventitré, si guardavano intorno nell'incerta luce delle insegne. Tra le file dei cavalieri, a viso scoperto, passarono anche delle inquietanti figure, anch'esse a cavallo ma stranamente mascherate, con dei tubi e delle bombole fissate sulle schiene. Poi fu la volta di enormi autocisterne, con lunghissimi manicotti simili agli idranti dei pompieri, dopo le quali il selciato tremò al passaggio dei pesanti carri armati avanzanti sulle loro zampe cingolate, completamente chiusi a parte le luminose e strette feritoie. Infine, passarono le grigie autoblindo, anch'esse dotate di strani tubi sporgenti e con i fianchi dipinti di teschi bianchi, sormontati dalle scritte «gas» e «armi chimiche». «Aiutateci, fratelli», si gridava dai marciapiedi, «fate fuori i rettili, salvate mosca!» Tra le fila si udivano spaventose bestemmie. Pacchetti di sigarette volavano nell'aria notturna artificialmente illuminata. Storditi dalla folla, i cavalieri mettevano in mostra i loro denti bianchi. Dai ranghi si levò un canto sordo e toccante. «Ne uomo, ne donna, ne fante, i rettili schiacceremo all'istante, in fila per quattro li ammazzeremo!» Fragorosi urrà si levarono dalla folla quando si diffuse la voce che in prima fila, sotto lo stesso cappuccio dei soldati semplici, cavalcava l'invecchiato e incanotito comandante dell'armata a cavallo, il leggendario eroe di dieci anni prima. La folla urlava e il suo boato saliva al cielo, infondendo un po' di serenità nei cuori torbati. «Urrà! Urrà!» Nell'istituto le luci accese erano invece poche e deboli. Al suo interno non giungevano che echi frammentari, confusi e torbidi degli avvenimenti in corso. Presso l'orologio luminoso del maneggio risuonò una scarica. Erano stati fucilati sul posto alcuni sciacalli che avevano cercato di saccheggiare un appartamento sulla Volcionca. In quei paraggi il traffico era scarso, perché le macchine si concentravano intorno alle stazioni. Nel laboratorio del professore era accesa un'unica lampada che gettava sul tavolo un debole fascio di luce. Persicoff era seduto con la testa appoggiata sulle braccia e taceva. Dense volute di fumo ondeggiavano intorno a lui. Il raggio era spento. Nei terrari le rane dormivano, tutto taceva. Il professore non lavorava e non leggeva, ma sotto il suo gomito sinistro giacevano alle rinfusa delle sottili strisce di carta. Erano i telegrammi del giorno prima, annuncianti che l'intera Smolensk era in fiamme e che l'artiglieria bombardava la foresta intorno a Moshisk per distruggere le uova di coccodrillo, deposte in grandi quantità in tutti gli anfratti. Si diceva anche che su Viasma una squadriglia di aerei aveva compiuto una missione coronata da successo, riversando gas tossici su tutto il distretto. In quelle località le vittime umane erano però incalcolabili, soprattutto perché la popolazione, in preda al panico, anziché evacuare ordinatamente le zone di residenza, era sfuggita alla cieca e a suo rischio e pericolo. Sempre intorno a Moshisk, una divisione di cavalleria caucasica aveva brillantemente sconfitto numerosi branchi di struzzi, annientandoli completamente e distruggendo immense quantità di uova. Le perdite riportate dalla divisione erano minime. Le autorità comunicavano anche che nel caso risultasse impossibile arrestare i rettili su una linea situata a 200 chilometri da Mosca, la capitale sarebbe stata evacuata nel massimo ordine. Impiegati e operai avrebbero dovuto mantenere un'assoluta calma. Il governo avrebbe preso le più drastiche misure affinché non si ripetesse quel che era avvenuto a Smolensk, che era stata devastata dal fuoco perché gli abitanti avevano lasciato accesi i fornelli nel disperato tentativo di sottrarsi all'improvviso attacco di migliaia e migliaia di serpenti assonagli. Le autorità comunicarono inoltre che Mosca aveva scorte sufficienti per sei mesi e che il Comando Supremo avrebbe provveduto a barricare gli appartamenti per combattere i rettili nelle vie della città, se l'esercito e l'aviazione non fossero riusciti ad arrestare prima l'avanzata dei rettili. Il professore non leggeva queste notizie, guardava dinanzi a sé con occhi vitrei e fumava. Oltre a lui solo due persone si trovavano nell'istituto, Pankrat e la governante Maria Stepanovna. La povera donna di tanto in tanto piangeva, stremata dalle tre notti insonni che aveva trascorso nel laboratorio del professore, il quale per nulla al mondo avrebbe abbandonato l'ultimo apparecchio esistente. In quel momento Maria Stepanovna si era rifugiata sul divano e incerato, in un angolo buio del laboratorio, e taceva, oppressa da angosciose riflessioni, con lo sguardo rivolto al tè che bolliva per il professore sul treppiedi del fornello a gas. L'istituto era immerso nel silenzio. Tutto accadde all'improvviso. Sul marciapiede si udirono ad un tratto urla violente, così cariche d'odio, che Maria Stepanovna balzò in piedi strillando. Delle torce si accesero nella strada e la voce di Pankrat risuonò nell'atrio. Il professore, senza comprendere sino in fondo il significato di quel frastuono, sollevò un attimo la testa e borbottò. «Senti come sono infuriati, ma che cosa posso fare adesso?» e ricadde nel suo torpore. Non per molto, però, perché da basso il massiccio portone dell'istituto cedette di schianto e i muri tremarono. Quindi andò in frantumi la finestra del laboratorio attiguo, subito seguita da quella del professore. Un ciottolo scagliato dalla strada fece a pezzi il tavolo di vetro. Nei terrari le rane si spaventarono e cominciarono a strepitare. Maria Stepanovna, terrorizzata, si mise a strillare, corse dal professore, prendendolo per il braccio e gridando «Scappi, Vladimir Ipatic, scappi!» Persikov scese dallo sgabello girevole, raddrizzò le spalle e piegò il dito ad uncino, con gli occhi che gli lucicavano come nei momenti di maggior ispirazione. «Non andrò da nessuna parte», rispose. «Che sciocchezza! Si agitano come pazzi. E poi, se tutta mosca è uscita di senno, dove potrei andare? Per favore la smetta di urlare! Che centro io in questa storia?» «Pancrat!» e premette un pulsante. È probabile che volesse ordinare a Pancrat di far cessare tutto quel trambusto da cui era, come sempre, molto infastidito, ma il custode non era più in condizione di accontentarlo. Il frastuono continuò. Le porte dell'istituto furono spalancate e dal basso giunse l'eco degli spari, quindi tutto l'edificio rimbombò di gente che correva, di grida e di vetri infranti. Maria Stepanovna si aggrappò alla manica di Persikov e cominciò a trascinarlo in qualche posto, ma lui si divincolò, si levò in tutta la sua altezza e uscì in corridoio con indosso il camice bianco. «E allora?» domandò a chissà chi. In quell'istante la porta si spalancò e la prima cosa che apparve fu la schiena di un militare con le mostrine rosse e una stella sulla manica sinistra. Il militare si allontanò dalla porta sparando con una pistola sulla folla inferocita e passò di corsa dinanzi a Persikov gridandogli «Professore, si salvi! Non posso fare di più!» alle sue parole rispose uno strillo di Maria Stepanovna. Il soldato sfrecciò accanto a Persikov, immobile come una statua di marmo, e scomparve nei tortuosi e oscuri corridoi dalla parte opposta dell'istituto. La folla fece irruzione ululando «Eccolo! Uccidetelo! Criminale! Tu li hai fatti nascere quei rettili!» Uomini dai volti alterati e gli abiti a pezzi avevano invasi corridoi. Qualcuno sparò. Apparvero dei bastoni. Persikov arretrò un po' e chiuse la porta del laboratorio. Maria Stepanovna era crollata in ginocchio per il terrore. Cercando di impedire l'accesso alla folla, il professore allargò le braccia come un crocifisso e gridò irritato «Ma è una vera follia! Siete delle bestie selvagge! Che cosa volete? Fuori di qui!» e terminò la frase con un grido a lui familiare «Pankrat, mandali via!» Ma Pankrat non avrebbe più mandato via nessuno. Il disgraziato guardiano giaceva immobile nell'atrio con la testa spaccata, calpestato e fatto a pezzi. E sempre nuovi intrusi gli passavano sopra senza curarsi degli spari della polizia. Un uomo basso, dalle gambe curve come quelle di una scimmia, con la giacca lacerata e lo sparato che gli pendeva da una parte, balzò accanto al professore e con un tremendo colpo di bastone gli sfondò la testa. Persikov sbarcollò e cadde lentamente su un fianco. Le sue ultime parole furono «Pankrat, Pankrat!» La folla imbestielita massacrò anche l'innocente Maria Stepanovna, devastò il laboratorio e fece a pezzi l'apparecchio, il raggio si spense per sempre, e i terrari. Bastono a morte, calpestò le rane impazzite di paura, distrusse i tavoli di vetro e i riflettori. Un'ora dopo l'istituto era in fiamme e tutto intorno giacevano mucchi di cadaveri. Un reparto armato di rivoltelle elettriche controllava la situazione, mentre gli idranti dei pompieri lanciavano getti d'acqua attraverso le finestre da cui le fiamme divamparono a lungo e furiosamente. Il gelo, Deus Ex Machina Nella notte tra il 19 e il 20 agosto la Russia fu stretta nella morsa di un gelo quale non si era mai avuto a memoria d'uomo in quel periodo dell'anno. Il gelo raggiunse i 18 gradi sotto zero e durò due giorni. Mosca, incredula e sconvolta, serrò porte e finestre. Solo il terzo giorno la popolazione comprese che il gelo aveva salvato la capitale e gli immensi territori che da lei dipendevano dalla spaventosa catastrofe del 1928. Sotto Moschaisk, l'armata a cavallo, aveva perduto i tre quarti dei suoi effettivi ed era ormai allo stremo delle forze. Le squadriglie aeree armate di gas non riuscivano più ad arrestare l'avanzata degli osceni rettili che si muovevano a semicerchio da ovest, sud-ovest e sud in direzione di Mosca. Il gelo li annientò. Le torme terrificanti dell'esercito dei rettili non sopravvissero alla temperatura di quei due giorni e il 20 agosto, quando il gelo scomparve, non lasciando dietro di secche umidità e fogliame bruciato dal freddo fuori stagione, non c'era più niente da combattere. La tragedia era terminata. Foreste, campi e paludi erano ancora ingombri di innumerevoli uova multicolori, alcune delle quali, decorate dall'inconsueto ed esotico disegno che Rock, sparito senza lasciar traccia di sé, aveva scambiato per sudiciume, ma queste uova non costituivano più un pericolo. Gli embrioni erano stati uccisi dal gelo. Sconfinate estensioni di terreno marcirono per molto tempo ancora, a causa degli incalcolabili cadaveri in potrefazione dei coccodrilli e dei serpenti, che il misterioso raggio intravisto dall'occhio geniale di un professore di via Erzen aveva chiamato alla vita. Le tremende ma fragili creature dalle calde paludi tropicali perirono in due soli giorni, lasciando sull'estensione di tre province uno spaventoso fetore di decomposizione e marciume. Seguirono lunghe epidemie provocate dai cadaveri di uomini e animali e per molto tempo ancora si dovette impiegare l'esercito, questa volta non più equipaggiato con gas asfissiante, ma con gli attrezzi del genio, con pompe e con cisterne di cherosene per disinfettare le terre delle tre province. Questa grande operazione di risanamento ebbe termine nella primavera del 1929. Nella primavera del 29 Musca riprese a ballare e a sfolgorare di luci. Il traffico degli automezzi tornò intenso come prima e sulla cupola della chiesa di Cristo Salvatore riapparve, come appesa ad un filo, la falce della luna. Al posto del vecchio edificio a due piani, bruciato nell'agosto del 28, fu costruito un nuovo istituto di zoologia, diretto adesso dal libero docente Ivanov. Ma Persikov non c'era più. Non avrebbe mai più piegato ad uncino il dito dinanzi agli occhi degli interlocutori e nessuno avrebbe mai più udito la sua voce stridula e gracchiante. Del raggio e della catastrofe del 28 si parlò e si scrisse ancora a lungo in tutto il mondo, ma col tempo anche il nome del professor Persikov fu dimenticato, così come fu dimenticato il raggio rosso da lui scoperto in quella notte di aprile. Infatti, nonostante i ripetuti tentativi del raffinato gentiluomo, ora professore ordinario Piotr Stepanovich Ivanov, non fu più possibile isolare il raggio. Il primo apparecchio venne distrutto dalla folla inferocita la notte dell'assassinio di Persikov. Gli altri tre bruciarono a Nikolsk, nel Sovkos raggio rosso, durante il primo attacco degli aerei ai rettili. Non si riuscì mai a ricostruirli. Per quanto semplice fosse la combinazione delle lenti con i fasci di luce, gli sforzi di Ivanov non furono sufficienti a riprodurlo. Per riuscirvi, era evidentemente necessario qualcosa che andava al di là delle conoscenze scientifiche, qualcosa che un solo uomo al mondo aveva posseduto. Il compianto professor Vladimir Ipatevich Persikov.